Buonasera, benvenuti al Centro per la Cooperazione Internazionale per il nostro Estival, Politica, Società, Cultura dell'Europa Orientale Balcanica. Siamo molto felici di ospitarvi al Centro per la Cooperazione Internazionale. Purtroppo sostituisco la collega direttrice generale Chiara Sighele che ha avuto un imprevisto e quindi non è potuta venire. Ma sono molto felice invece di dare subito il benvenuto e la parola al Sindaco di Trento che è venuto ad ascoltare il nostro evento, la nostra prima conversazione. Poi dirò a mia volta due parole di introduzione per dare velocissimamente inizio invece alla tavola rotonda con cui iniziamo questo tour de force. Buon pomeriggio, grazie. Saluto a tutti, un saluto particolare al mio amico Marco Boato. Io penso che l'importanza di eventi come questo, oltre che un'importanza in sé, lo rivestono anche per la città di Trento e per il Trentino. Tocco un punto che per alcuni di voi sarà veramente laterale, per altre persone credo che lo troveranno abbastanza centrale per quello che noi siamo. Voi sapete, vedo qui degli studenti, noi abbiamo a cuore la nostra autonomia. Beh, io credo che l'autonomia trentina si giustifica, tra le altre cose, se prova a avere una proiezione anche al di fuori di sé. Se l'autonomia è raccontarsi quello che si è, dirsi che amministriamo bene, ma non c'è una volontà di guardare quello che c'è fuori dei nostri confini, quindi perdiamo molto del nostro senso, della profondità storica rispetto a quello che siamo, ma anche appunto di, c'è stato un momento in cui la provincia ha avuto una ambizione geopolitica, ma non in un senso di volontà di potenza, di interrogarsi sul mondo e provare anche a dare un piccolo contributo alla risoluzione delle questioni. Io credo che quello che fa il nostro centro per la cooperazione internazionale, che fa l'osservatorio, va sempre in questa direzione. Io non sono un esperto di Balcani, di Europa dell'Est, però mi è capitato in questi giorni di leggere l'introduzione di un libro che sta per uscire per Rubettino, la fa un mio amico, conoscente, si chiama Francesco Ronchi, lui lavora in abito Unione Europea, e lui usa l'immagine di Saramago, la zattera di pietra, in quel romanzo i Pirenei si staccano e la penisola iberica va alla deriva e lui la usa per i Balcani, dicendo è come se fossero un'isola, qualcosa che si è staccato ed è scomparso dalle mappe, e poi lo vediamo riapparire l'Est. Allora credo che ogni iniziativa che viene fatta, certo parlando dell'attualità, come nel caso della guerra e dell'aggressione russa all'Ucraina, ma anche di quello che noi oggi conosciamo meno, che io oggi conosco meno, è un io che riguarda noi cittadini, sia molto importante, perché in definitiva stiamo parlando della dimensione della nostra Europa. Allora grazie davvero a tutti voi per aver pensato a questa iniziativa e come dico ci sono alcuni eventi a cui partecipo perché devo come sindaco, ma non c'è niente di male, altri a cui partecipo perché mi interessano tanto e questo è uno di quelli. Grazie. Grazie davvero anche per aver colto il senso di questa nostra iniziativa con la quale appunto vorremmo aprire una conversazione tra i maggiori esperti che ci sono in nostro paese, italiani e non, che seguono da tanti anni la regione, le regioni dell'Est Europa, con l'idea di confrontarsi, di discutere insieme, anche per accapezzarci, perché un mondo particolarmente difficile, quello in cui viviamo, forse molto più difficile di quello che ci aspettavamo quando 23 anni fa fu costituito l'osservatorio. Questa iniziativa in realtà nasce da una volontà di uno dei nostri colleghi, in particolare di East Journal, del gruppo di redazione di East Journal, che ha lanciato proprio a noi la proposta di costruire insieme questa iniziativa a Trento, perché a Trento effettivamente c'è un insieme di persone, di soggetti all'università, ma non solo, che all'Est Europa hanno dedicato tanti anni di studio. E quindi in qualche modo ringrazio innanzitutto Zola per avere spinto a trovare il coraggio di fare un'ennesima iniziativa culturale e ad idearla, animarla e anche a coprire parte dei costi con il crowdfunding, che dimostra che c'è ancora tanto interesse pubblico verso queste regioni. Poi naturalmente un ringraziamento particolare va alla squadra di studi internazionali, che ha accolto subito la nostra idea di contribuire con gli studiosi, le studiose che contribuiscono con il programma e che a loro volta appunto sono co-ideatori di questa iniziativa. E poi abbiamo trovato collaboratori anche dentro il mondo della cultura trentina, in particolare con l'editore Keller domani ci presenterà un libro, e poi abbiamo portato il contributo del Trieste Film Festival, che ha accettato l'invito di arricchire il programma, così come l'associazione Fuori Via che di sotto ha allestito una mostra che vi invito a guardare perché tra le varie cose parliamo di conflitti, di guerre, di drammi, ma anche di tanta passione per l'Europa orientale che speriamo di animare ogni anno con un nuovo festival. Fa un po' strano in quest'epoca così cupa mettere un termine che per me almeno parla di festa, però da un lato vogliamo appunto sperare che sia un evento pluriannale e dall'altro abbiamo anche bisogno di incoraggiarci a ridare un senso allo studio, anche al contributo che dal punto di vista della società civile vogliamo dare alla politica internazionale. L'Europa, naturalmente, chiedo scusa, tra le persone che voglio ringraziare ci sono gli esperti che sono venuti e che daranno forma al dialogo sull'Europa, per cui abbiamo voluto questo festival. Naturalmente a voi che siete venuti e che testimoniate con la vostra presenza l'attenzione e con cui, verso la regione, con cui speriamo di avere spazio per un po' di conversazione durante i panel, ma poi anche nel momento recreativo successivo. E poi ringrazio i colleghi di Osservatorio Balcanica Occasus TransEuropa che, come sempre, mettono tutte le loro energie in questa difficile sfida ogni volta di organizzare un'iniziativa. L'Europa centrale a orientare balcanica è appunto spesso vista come periferica rispetto agli equilibri globali, ma la guerra purtroppo, negli anni 90 come adesso, la riporta al centro dei ragionamenti di politica internazionale. E questo non ci fa per forza piacere, nel senso che purtroppo non è il modo giusto per tornare sulla scena, anche se, almeno in questo momento, quando parliamo di Ucraina e di Balcani, abbiamo ricominciato a parlare di allargamento, di integrazione europea, e quindi comunque di una visione positiva di integrazione. Anche se, purtroppo, in questa visione geopolitica, in una visione di conflitto, di sfida, qualcun altro forse andrebbe ripensato anche cosa intendiamo per integrazione europea. In ogni caso, vogliamo cercare di avere strumenti in questa conversazione con voi per affrontare questo scenario internazionale insieme ai soggetti che sono promotori e soprattutto per dire che noi ancora oggi riteniamo come osservatorio che è importante, da un lato, dare un senso della complessità delle cose, ma anche cercare di sbrogliare questa complessità e alimentare soprattutto un dibattito pubblico nell'opinione pubblica, una consapevolezza nell'opinione pubblica profonda, vera, non superficiale di quello che ci cade intorno e stimolare davvero la nascita di relazioni tra soggetti, tra società civili dei paesi che seguiamo, perché questo resta per noi fondamentale, se vogliamo in qualche modo dare un contributo alla pacificazione o alla pace nel mondo, una volta la chiamavamo così forse ingenuamente, ma in generale alla pace, e sicuramente perché è importante che anche la politica internazionale abbia una sua democratizzazione, veda nel dibattito pubblico e nella società civile degli attori consapevoli e capaci di in qualche modo intervenire sulle politiche dei nostri governi, che almeno per il momento restano democratici. Chiamo quindi sul nostro palco i primi rappresentanti del primo panel che parlerà appunto di guerra in Ucraina, origini dinamiche e prospettive, e con loro il moderatore e il nostro Zola. Grazie. Mi unisco anch'io ai ringraziamenti, grazie a tutti voi di essere venuti qui ad ascoltarci, non sono sicuramente argomenti semplici, ma mi unisco insomma a quanto ho detto da Luisa Chiodi, era importante secondo noi creare un momento di confronto. Procedo rapidamente con la presentazione degli ospiti, in rigoroso ordine alfabetico, cominciando quindi da Paolo Bergamaschi, analista e collaboratore di Osservatorio Balcani-Caucaso e già consigliere politico presso la Commissione Esteri del Parlamento Europeo, Olexei Bondarenko, assistant professor presso l'Università di Warwick, anche se mi dicevi ieri che sei passato alla City University di Londra, studia le dinamiche politiche interne allo Stato ucraino, ed è uno storico redattore di East Journal. Giorgio Cella è leggermente in ritardo a causa dei trasporti, riva in treno, il treno è in lieve ritardo, è docente presso l'Università della Calabria, analista di politica internazionale ed è autore di un bel volume, che è storia e geopolitica dell'Ucraina, edito da Carocci nel 2021. Giorgio Comai, dottore di ricerca professora da Dublin University, lavora come ricercatore per Osservatorio Balcani-Caucaso, si è occupato molto del conflitto in Ucraina e si occupa da tempo soprattutto degli stati de facto della regione caucasica. Nonna Michelizze, responsabile di ricerca presso l'Istituto Affari Internazionali, IAI, già vincitrice del premio Viareggio come giornalista dell'anno per il suo contributo sul dibattito alla guerra. Marco Puleri, ricercatore dell'Università di Bologna, vice coordinatore del MIRES, si interessa di dinamiche socio-culturali russe e ucraine e dei processi di nation building nell'area post-sovietica. E infine, Alessandra Russo, professoressa associata dell'Università di Trento, si occupa di sicurezza internazionale e ha dedicato particolare attenzione al conflitto russo-ucraino. E proprio da Alessandra Russo vorrei cominciare partendo da un argomento per certi versi delicato, cioè quella della controffensiva, la controffensiva che si è svolta quest'estate che possiamo dire in qualche modo ormai esaurita. Com'è andata questa controffensiva? Perché è andata? Com'è andata? E l'invio di armi, il sostegno militare occidentale, è stato adeguato alle necessità offensive dell'Ucraina? Grazie Matteo, buonasera a tutti, grazie agli organizzatori per aver coinvolto me e in modo più ampio la Scuola di Studi Internazionali dell'Università di Trento. Allora, per molti mesi a questo punto l'efficacia o non efficacia, la lentezza o il ritmo, la velocità della controffensiva d'estate, la controffensiva estiva, è stata dibattuta, dibattuta a livello politico, a livello pubblico, a livello mediatico e diciamo in molte voci sembrano essere d'accordo su una sorta di delusione giusto di questa fase della guerra. È stato detto molto ed è stato detto molto appunto sulla lentezza. In particolare alcuni analisti proprio di strategia militare quindi hanno cercato di calcolare l'efficacia della controffensiva d'estate in termini di equipaggiamento perduto nei momenti di attrito e anche proprio in termini di chilometri o metri di avanzata delle forze ucraine al giorno. Questi calcoli sono stati fatti soprattutto in relazione alle precedenti fasi di... Scusate. Alle precedenti fasi e precedenti due momenti di controffensiva che si erano avuti nei mesi precedenti e in relazione ai quali sia nell'estate precedente che in un periodo più lungo del 2022 da agosto a novembre erano stati visti dei ritmi più sostenuti addirittura addirittura si parlava in un caso di più di sette chilometri al giorno in un altro caso di quasi 600 metri al giorno ma comunque molti meno metri sono stati calcolati per quanto riguarda l'offensiva d'estate di questa ultima estate secondo sempre questi studiosi di strategia militare questo rallentamento questa debolezza tattica rifletteva una un calcolo sbagliato diciamo una un condurre in modo debole le operazioni sul terreno è stato identificato come fattore determinante quello della moltiplicazione di un'eccessiva moltiplicazione dei fronti ed era stato suggerito la concentrazione delle forze lungo una sola direttrice per appunto velocizzare per dare un ritmo più sostenuto a questa controffensiva in realtà se andiamo a guardare diciamo anche a livello proprio tattico e sul campo la situazione o comunque le variabili in gioco sono molteplici innanzitutto c'è la decisione proprio della leadership militare strategico militare del paese di cercare di ridurre le perdite sia perdite umane ma anche perdite in termini di sistemi d'arma di equipaggiamento militare e quindi dei momenti di attrito e quindi un cambiamento di conduzione strategica di questa controffensiva rispetto alle precedenti facendo anticipare ai momenti di avanzata un tentativo di distruzione dell'artiglieria nemica e quindi ovviamente questo cambiamento di strategico militare ha anche modificato il ritmo la velocità dell'avanzata andando poi a dare questa percezione di rallentamento per un calcolo errato per una conduzione debole o comunque errata delle operazioni è in questo contesto che è andata poi maturanda maturando scusate in una sorta di rottura degli indugi rispetto alla offerta di di questi aerei da combattimento il famoso dibattito sugli F-16 da un lato quindi guardando a questa nuova modificata decisione strategica e tattica sul campo dall'altra una maggiore consapevolezza che la conduzione della controffensiva era stata profondamente impattata proprio dalla non disponibilità di tecnologie militari adeguate ed in particolare di capacità di difesa aerea ed è quindi proprio a questa estate che risale un primo una prima esternazione diciamo diplomatica che mette insieme una molteplicità di paesi rispetto alla disponibilità di rompere gli indugi con questo sistema d'armi condizionata al completamento di un addestramento militare e qui si entra in un'altra diciamo in un altro elemento della discussione l'organizzazione di un hub di addestramento in Romania ed è di pochi giorni fa che un primo batch diciamo di cinque F-16 è arrivato presso questa base aerea un training un addestramento che si svolge appunto in questo centro che è stato fortemente voluso dalle autorità rumene ma anche da quelle olandesi da quelle statunitensi chiaramente e che vede anche la partecipazione attiva e la promozione della costruzione di questa infrastruttura della messa in opera di questa infrastruttura da parte di Lockheed Martin quindi l'intrecci tra diciamo decisione politica e industria della difesa per passare poi alla diciamo seconda parte della domanda sull'adeguatezza della diciamo dell'aiuto militare vorrei agganciarmi a dei dati parlavo stamattina con un ricercatore italiano che lavora al Kiel Institute che è un istituto di ricerca che da circa due anni sta monitorando il peso l'entità quantificando quanto si sta trasferendo in termini di aiuti militari ma loro misurano anche gli aiuti finanziari ed umanitari all'Ucraina quando si parla di adeguatezza degli aiuti militari si entra in un certo senso in un ginepraio che non riguarda soltanto l'efficacia ma anche la legittimità la credibilità e quanto questo tipo di aiuti venga accettato nel medio e nel lungo periodo a livello di opinione pubblica e lui mi diceva è importante andare a vedere i numeri è importante monitorare quantificare perché se mettiamo insieme nonostante ci sia ed è molto evidente per esempio negli Stati Uniti nell'ultimo periodo una sorta di crescente insofferenza rispetto alla sostenibilità nel medio e nel lungo periodo di questi aiuti militari nonostante ci sia questa crescente diffidenza e percezione di insostenibilità se andiamo a vedere il peso per esempio sul bilancio comunitario dei trasferimenti in aiuti militari vediamo che paragonando gli aiuti militari e il peso sul bilancio comunitario dell'Unione Europea di questi aiuti rispetto per esempio agli investimenti e al disborso che l'Unione Europea ha fatto in occasione di altre crisi lui mi faceva mi mostrava i dati rispetto alla crisi pandemica ma anche alla guerra del Golfo gli aiuti militari e i trasferimenti di aiuti militari per esempio dall'Unione Europea nel contesto della guerra in Ucraina sono minoritari quindi quando si parla di adeguatezza soprattutto nel dibattito pubblico dobbiamo anche tenere conto dell'evidenza empirica è quello che credo noi analisti studiosi cerchiamo di fare grazie magari io uso questo e voi vi passate il microfono è già acceso io scusi si sente sì si sente dunque guardando invece alla Russia non a Michelize alla sua tenuta interna la sua tenuta politica la sua tenuta sociale sono accaduti certi fatti uno più recente questo episodio in Dagestan ma anche la vicenda di Prigojin sono segnali di uno sfaldamento del regime e cosa c'è da attendersi da un'eventuale caduta di Putin insituto buonasera a tutti grazie dell'invito grazie per aver organizzato questo evento anche in un momento dove appunto a causa di altri eventi drammatici e quello che sta succedendo nel Medio Oriente sembra che Ucraina insomma sta scomparendo dalla tensione pubblica per rispondere alla domanda io vorrei cominciare proprio dalla controoffensiva che poi ci porterà a rispondere questa domanda perché allora in realtà quello che sta succedendo in Ucraina con questa controoffensiva che penso poi è stato molto ben descritto anche dal generale Zalushni nella sua intervista articolo manifesto quello che era sulla sull'Economist è che la guerra siamo arrivati a una guerra di posizione che ha prospettiva trasformarsi in un stallo e quella prospettiva di un stallo ovviamente favorisce la Russia a lungo andare per il semplice fatto che a lungo andare l'Ucraina Zalushni dice in questo momento non c'è questo problema ma in futuro lo avrò c'è il problema delle risorse umane ora quando si parla controoffensiva soprattutto facendo analisi comparativa con la controoffensiva precedente che ha portato alla liberazione di Kharkiv e Kherson ci sono delle differenze fondamentali il fattore delle mine del territorio enorme territorio minato per Ucraina oggi è il paese più minato del mondo e se la tecnologia di sminamento fermassi allo sviluppo di oggi ci vorrebbero 300 anni per sminare il territorio quindi questo ci fa insomma spiega anche il perché il ritmo di quella controoffensiva ma soprattutto secondo me ad oggi noi possiamo dire che la strategia occidentale e Alessandra proprio faceva riferimento al quanto poco è stato spedito delle armi in realtà all'Ucraina sia da parte degli Stati Uniti che da parte dell'Europa non dimentichiamo che gli Stati Uniti ha mantenuto il vetto su Atacams fino a un mese un mese fa e ha mangiato ha mandato in poche quantità mentre poteva tranquillamente fare questo 6-9 mesi 9 mesi prima ma la strategia sappiamo degli Stati Uniti e cosiddetta escalation management col calcolo che hai a che fare con un paese nucleare non vuoi causare un effetto shock sul campo di battaglia perché non sai calcolare quale sarà la reazione dall'altra parte quindi con questa paura che sorpassando le linee rosse che poi abbiamo visto che sono un po' finte queste linee rosse che Mosca mette su vari tipi di riarmi insomma si è stata adottata questa questa strategia di escalation management anche insomma abbiamo visto due giorni fa la dichiarazione del ministro della difesa tedesco sugli sistemi come Taurus per esempio che dice che è scettico non è sicuro che i sistemi come Taurus avranno un impatto sul corso della guerra mentre insomma sappiamo che Atacams mesi fa poteva risolvere il problema complicare molto le logistiche e rifornimenti sul fronte per la Russia e con Taurus si sa cosa si può fare e che ucraini vogliono buttare giù il ponte di Kerch che è proprio il fonte di rifornimento lungo il fronte quindi quello che sta succedendo adesso è in realtà che la strategia occidentale facciamo sopravvivere Ucraina senza farlo vincere è arrivata a capolinea e quindi adesso o si ripensa a una strategia oppure la mass media che si mette di nuovo a parlare del negoziato perché poi adesso quello che stiamo vedendo in realtà è questo in realtà da luglio in poi la controoffensiva è cominciata il 18 giugno e già dopo un mese la mass media si è spazientata e hanno cominciato a parlare del negoziato e in realtà è una cosa che era già successo prima della controoffensiva Kharkiv e Kherson che è cominciata il primo luglio agosto già parlavano del negoziato poi è arrivata il 30 settembre liberazione di Kharkiv poi seguita il 6 novembre se non mi sbaglio dalla liberazione di Kherson si sta ripetendo un po' la situazione dove la mass media e la comunità degli esperti fissano loro le scadenze che poi non vengono rispettate e poi di nuovo parte questo ciclo della discussione sul negoziato allora il negoziato non ci sarà e non ci sarà per vari motivi e arriverò a che uno dei motivi ha a che fare con la tua domanda il primo motivo è che quando una delle parti del conflitto percepisce la guerra come una guerra che nocida cioè una guerra dove la Russia cerca di eliminare lo Stato e di eliminare l'identità ucraina è difficile per quella parte lì immaginarsi di sedersi a tavolo e negoziare con i russi io sono stato in Chieva a settembre due volte ed erano due tipi di viaggi una era incontro con la società civile proprio dal basso con la gente ordinaria insomma per capire come loro vivono la guerra e l'altro incontro era proprio incontri con i rappresentanti del governo che vi dà poi la possibilità di vedere nell'insieme insomma come vive il paese la guerra e quindi lì la gente semplice loro tutti sono convinti che li vogliono uccidere tutti lì fare la domanda cosa cosa dite questa soluzione dare il territorio in cambio di pace è impensabile e ti risulti quasi ridicolo perché ti guardano sorpresi dicendo che ma lui Putin non è venuto lì prendere tre o quattro regioni è venuto prendere tutto tutto il paese è venuto ad ammazzarli tutti di questo sono veramente convinti a questo si aggiunge ovviamente l'esperienza del negoziato perché la guerra non è cominciato 24 febbraio 2022 cominciato 2014 con l'annessione della Crimea e con la guerra in Donbass e 2014 fino a 24 febbraio 2022 ci sono tenuti 200 round di negoziati fra Ucraina e la Russia altrettanti accordi sul cessato fuoco e questi 200 negoziati hanno portato alla guerra su larga scala di 24 febbraio questa era la razionale dell'Ucraina per cui non è pronto a negoziare ma soprattutto qua il problema è che dall'altro lato perché poi si avanzano varie proposte c'è stata una proposta di Kissinger che dice cedere i territori quello che ha preso la Russia lasciamo alla Russia quello che rimane facciamo entrare nella Nato in Unione Europea e questo è una soluzione che non si sa perché andrebbe bene alla Russia allora la Russia non è interessato ha negoziato per un semplice motivo l'unico strumento e la possibilità per Putin rimanere il potere è attraverso la guerra perché in realtà la necessità di guerra è già immersa in Russia nel 2019 quando è cominciata una tensione sociale politica economica dentro il paese è cominciata con la riforma delle pensioni è cominciata con la riforma della Costituzione è cominciata con le elezioni in Russia amministrative che a Mosca hanno portato alle manifestazioni che sono state poi dove sono stati arrestati 2.000 partecipanti delle manifestazioni mandati in carcere è cominciato con seguito a queste inventiere avvelenamento di Navalny il suo ritorno il suo mandare in carcere a questo sono seguiti rafforzamenti sulle leggi sulla restrizione delle libertà umane come leggi sulle organizzazioni non governative dichiararle come organizzazioni indesiderate e invece dichiarare alcuni rappresentanti della società civile come agenti dello Stato straniero dopo succede il Covid con i morti della Russia ha avuto un numero dei morti uno degli elevati insomma a livello mondiale ovviamente con tutte le conseguenze economiche e sociali ed è proprio in quel momento che luglio 2021 Putin pubblica il suo famoso articolo sulla unità nazionale di Ucraina e la Russia che rende chiaro che la guerra è inevitabile e la guerra c'è la necessità della guerra per mantenere il potere perché in qualche modo il contratto fra lo Stato e la società russa si esaurisce e comincia la guerra adesso per finire la guerra Putin significherebbe di avere a che fare non solo con i problemi preesistenti della guerra quindi per 24 febbraio ma in più avere a che fare con i problemi che derivano naturalmente da questa guerra che sono tutti i morti che sono i problemi economici sociali politici eccetera quindi l'obiettivo di Putin a questo punto è innanzitutto far trascinare questa guerra sicuramente alle elezioni americane perché punta tutto sul ritorno del Trump e fare poi eventualmente accordo di Trump ma mantenere proprio anche all'intensità basso pur non finire la guerra quindi questo quanto è il negoziato adesso quello che è successo a Dagestan è stato io l'ho chiamato anche un momento pre-Goshin perché ovviamente aveva due dimensioni uno questo sentimento antisemita e poi appunto la questione che riguarda proprio gli affari interni della Russia perché in realtà antisemitismo in Caucaso non era mai presente perché in Caucaso del nord storicamente non è che ci sono stati tanti ebrei verso quali potevano manifestare i caucasici del nord antisemitismo che è molto caratteristico in realtà per tutta la storia russa storia zarista dell'Unione sovietica e in altri insomma i pogrom antisemite in Russia la storia ne conosce però in realtà quello che succede in Dagestan manda un messaggio a tutti perché poi in Russia tutti credono che la situazione interna è quella che per un post sbagliato su Facebook o su qualsiasi social becchi il carcere e ti arrestano e poi esce fuori che 300 persone possono prendere l'assalto aeroporto internazionale di Mahajkala e fare quello che hanno fatto contro anche forze dell'ordine quindi ovviamente questa cosa ha implicazione per la tenuta di regime così come ha avuto implicazione quello che è successo con il tentato militare di Prigogine che ha fatto crollare il mito dell'essere forte il sistema politico russo di un mito che nessuno poteva sfidare il sistema e sfortunatamente per alcuni ha rafforzato i miti insomma che oddio quando se ne va Putin allora ci sarà un caos perché poi non si sa perché l'Occidente è in qualche modo anche penso da arroganti pensare che possiamo mai avere l'influenza o prevenire o gestire il caos che potrebbe crearsi in Russia in futuro grazie dunque a me adesso piacerebbe approfondire un attimo la questione naturalmente sentitevi liberi insomma di intervenire come preferite ma dei rapporti tra Russia e Ucraina e tra i rapporti tra russi e ucraini sia tra all'interno dell'Ucraina che all'esterno e quindi volevo chiedere a Giorgio Cella la retorica del Cremlino ha insistito molto sul concetto di fratellanza tra i popoli russo bielorusso ucraino però questa fratellanza insomma sembra che alla fine questi popoli bielorusso e ucraino siano dei fratelli minori che vadano in qualche modo ricondotti alla madre russia e addirittura Putin ha chiaramente detto che l'Ucraina non può esistere se non nella Russia allora questa fratellanza esisteva è esistita e se è esistita quando e perché si è rotta grazie Matteo innanzitutto per l'invito sì allora un certo tipo di vicinanza etnico culturale ovviamente è esistita esiste tra gli slavi orientali come sono tecnicamente definibili dal tempo della Rus di Kiev a oggi certo che ci sono state delle fratture nel corso della storia ucraina e nel corso della storia dei rapporti bilaterali tra Russia e Ucraina difficilmente rimarginabili ma anche prima del 2022 noi pensiamo solo all'Olodomor ad esempio nel 1900 cioè uno dei genocidi più definiti quantomeno dagli ucraini e da gran parte della comunità internazionale come un genocidio per non parlare poi delle purghe di Stalin eccetera del dominio russo nell'Ottocento insomma potremmo ripercorrere tutto un corso di storia dell'Europa orientale oggi c'è ancora questa percezione da parte dei russi che persiste nel vedere gli ucraini e i bielorussi come un tipo di etnia e statualità non totalmente legittimate dalla storia e qui c'è un primo punto che va ripreso cioè la concezione che noi occidentali abbiamo di confini è quella che hanno i russi i russi vedono i confini non come un qualcosa di un dogma sacrale quasi come lo consideriamo noi specie dal 45 e ancora ancora in più dall'89 in poi ma come un qualcosa che può essere ridefinito rimodellato in base alla storia quindi dal loro punto di vista c'è una preminenza quasi dei fattori diciamo della storia e anche di quelli che il renouven chiamava le forze profonde cioè le forze profonde della storia le tradizioni la cultura l'etnia la lingua l'appartenenza in una parola identitaria questo termine che secondo loro quindi in qualche modo ha una una sorta di legittimità più forte rispetto ai confini così come usciti dal 45 e ancora di più dall'89 che ricordiamo la dissoluzione dell'URSS Vladimir Putin la definì come la più grande catastrofe geopolitica della storia o della storia del novecento ecco quindi vediamo come innanzitutto c'è una differente una differente visione su alcuni punti fondamentali dell'architettura istituzionale post 45 e post 89 la Russia si vede come impero quindi in questo impero poi come sappiamo nel corso dell'ottocento in poi ci sono state diverse visioni gli slavisti panslavisti gli eurasisti e queste divisioni sussistono tuttora all'interno delle elite russe però l'Ucraina e la Bielorussia che è una sorta di stato con una legittimità diciamo su cui si può discutere no sappiamo i tentativi di unione tra Russia e Bielorussia poi mai portati a termine ma de facto esistenti e quindi sia l'Ucraina che la Russia sono ancora un po' visti in qualche modo questo Putin poi l'ha anche scritto in un articolo che avremmo tutti dovuto vedere con più attenzione nell'estate del 2021 pochi mesi prima del fatidico 22 febbraio 2022 in cui spiegava come l'Ucraina fosse parte di un tutt'uno russo di questo ruski mir stesse stesse teorie anche portate avanti in maniera diversa anche da Solgenitzin quindi da figura un po' più diciamo così superparte se vogliamo o storiche letterarie questo articolo si chiamava sull'unità sull'unità storica tra russi ucraini che già dice molto quindi c'era già un tentativo chiaro di mettere anche da un punto di vista storico e storiografico le cose secondo il suo punto di vista e poi ha tentato di farlo manumilitare per l'appunto nel 2022 non c'è riuscito perché prima Nona diceva giustamente che l'intento iniziale della Russia è stato quello di conquistare interamente l'Ucraina poi perché l'Occidente ha assistito l'Ucraina questo non è riuscito a livello proprio tecnico altrimenti senza l'Occidente quello che no la Russia chiama l'Occidente collettivo e la l'Ucraina probabilmente sarebbe già ritornata sotto un qualche tipo di dominio non voluto ovviamente russo e quindi diciamo che la questione sussiste io mi chiedo tra l'altro anche per portare il discorso un po' fuori dalla storia e in una logica un pochino più futuristica cioè allora ci sono tanti tipi di tipologie di negoziato pensate prima non amiche ne ha ricordato qualcuno tutti completamente tra l'altro astratti cioè tutti assolutamente così attentoni anche quello di Kissinger sì ho capito ci sarà quindi le quattro regioni Danesk Lukansk Kherson e Zaporizia sotto un controllo russo diciamo se e Crimea eh certo Crimea eh esatto anche qui si potrebbe poi parlare della Crimea nei rapporti russo-ucraini ehm e come lì la storia fa da tramite l'attualità geopolitica lo vediamo subito dopo ehm stavo dicendo tutte queste tipologie di negoziato vedrebbero una situazione comunque indefinita no? una pace forse squilibrata per l'Ucraina a questo punto anche perché dovrebbero rinunciare a quattro regioni come se noi dovessimo dare domani alla non so faccio una una nazione che volete voi eh la Calabria la Puglia la Sicilia insomma quindi insomma è una situazione comunque pesante ma a un certo punto però questi due stati che confinano tra di loro le popolazioni sappiamo tutti i legami anche parentali che esistono eh tra Russia a Ucraina eccetera eh o quantomeno esistevano eh e quindi questi due popoli a un certo punto dovranno coesistere immagino cioè quale altro futuro certo che chi pensa a una possibile rimozione del potere di Putin una rimozione di Putin dal potere certo che lì si configurerebbe uno scenario veramente roseo però questo rimane nel wishful thinking occidentale ovviamente abbiamo avuto tante belle speranze ma per ora sembra ancora essere in sella e come ha detto ehm come detto prima tra l'altro credo che lui voglia mantenere questa sorta di eh guerriglia a più bassa intensità adesso ma sempre altissima perché i droni fanno dei danni incredibili bombardamenti l'artiglieria fino al 2024 anno fatidico per le relazioni internazionali future soprattutto dal punto di vista elettorale salvo altre sorpresine che magari il destino riserverà quell'anno ma pensiamo alle elezioni europee elezioni russe vabbè che lì non è che ci sono delle grandi sorprese ovviamente e soprattutto a quelle americane ovviamente lì le cose potrebbero potrebbero cambiare sulla Crimea la Crimea ha avuto già prima il destino che sta avendo l'Ucraina adesso in termini mediatici non se n'è più parlato per anni cioè non si è più posto il problema di una Crimea separata dal suo stato-nazione secondo il diritto internazionale in vari accordi tra l'altro vediamo anche il memorandum di Buddha eccetera anche da parte dei russi riconosciuta come parte dell'azione ucraina quindi c'è una sorta di crimeizzazione adesso odierno del conflitto in Ucraina perché dall'esplosione del conflitto in Medio Oriente in poi ovviamente c'è stata una maggiore disattenzione da parte mediatica internazionale e qui poi si potrebbe parlare magari nella seconda fase di un nuovo mondo di un nuovo ordine multipolare che sebbene assai frammentato al suo interno perché i BRICS voglio dire basta vedere chi sono questi paesi e si vede una netta differenza su tanti punti di vista tante dimensioni geopolitiche economiche di alleanze culturali eccetera però con questo conflitto in Medio Oriente e anche con l'Ucraina abbiamo visto quello che alcuni chiamano un sud globale che secondo me non è che abbia molto senso come definizione ma diciamo un fronte alternativo all'Occidente emergere in maniera un po' più chiara che in passato e questi archi di crisi che abbiamo oggi enormi perché sono due guerre globali quella Ucraina e quella Medio Orientale non fanno altro che indebolire evidentemente la posizione degli Stati Uniti forse c'è una strategia anche di eroderne pian piano le risorse e non mi stupirei se nei prossimi mesi saltasse fuori un'altra grande crisi dove Russia e Cina hanno per adesso un allineamento poi in futuro si vedrà che andrebbe a complicare ancora di più il ruolo degli Stati Uniti che rimangono l'unica ancora superpotenza sotto tanti punti di vista ma in alcuni in alcuni ambiti recalcitrante e ovviamente ritorniamo al 2024 in caso di una vittoria di Trump ci sarebbero ulteriori cambiamenti ma non diamo nulla per scontato perché ricordo a tutti che i primi lethal aid cioè in gergo americano militare gli aiuti militari e non umanitari furono dati dall'amministrazione Trump quindi anche lì ecco non facciamo il discorsetto sentito dire ah arrivano i repubblicani mollano tutto cambiano tutto non funziona così ci sono gli apparati come sappiamo ci sono i servizi e ci sono delle forze che comunque tendono a riequilibrare un po' le cose ecco ci saranno chiudo magari dei cambi però non radicali come si pensa grazie abbiamo già anticipato anche tanti argomenti invece vorrei tornare ancora un attimino a guardare a guardare dentro l'Ucraina e appunto si è parlato adesso delle relazioni tra Russia e Ucraina ma qual è invece lo stato di salute dei rapporti Marco Puleri tra la comunità cosiddetta ucrainofona e la comunità russofona sappiamo che anche su questo il Cremlino ha agito con la sua propaganda parlando di russofoni minacciati eccetera eccetera soprattutto io c'è una domanda che mi faccio da tempo quale sarà il destino dell'identità ibrida dell'Ucraina grazie grazie Matteo grazie a tutti voi per essere qui e ne approfitto soprattutto per ringraziare Luisa e Matteo e gli organizzatori per averci portato insieme quest'oggi non è così non è così facile e ne approfitto anche per ringraziare entrambi per dare spazio e voce anche ai tanti studenti giovani ricercatori che poi trovano in queste piattaforme la possibilità di esprimersi di trovare anche modo per dar voce alle loro ricerche credo che questo sia molto importante anche perché la realtà forlivese da cui provengo che è un po' così smarrita nel mare della Romagna un po' ci accomuna in tanti per esperienze vissute anche nel passato e credo che sia importante per rispondere alla tua domanda credo che sia importante anzitutto decostruire la nostra idea di minoranza russofona minoranza russofona o comunità russofona d'Ucraina è un termine che ci siamo un po' abituati ad utilizzare o ad ascoltare per via di una concettualizzazione che ne è stata fatta dalle istituzioni russe ed ucraine nel corso degli ultimi trent'anni ma di base la domanda che ci dovremmo proporre ancora prima di rispondere al futuro di queste persone all'interno del futuro dell'Ucraina stessa è esiste o meno una comunità russofona d'Ucraina ovvero esiste una comunità fatta di una comunanza potremmo dire di pratiche linguistiche di provenienza etnica che si riconosce in un orientamento politico chiaro e definito guardando dall'interno all'Ucraina io ho avuto modo di vivere e di fare ricerca in Ucraina nel corso negli ultimi dieci quindici anni io direi di no direi di no innanzitutto per varie ragioni innanzitutto perché potremmo chiederci chi parla ucraino chi parla russo in Ucraino in Ucraina oggi e se guardiamo alla diversità etnica e linguistica in Ucraina possiamo già vedere come il binomio russo-ucraino non sia l'unico presente all'interno nel paese quando parliamo di Ucraina parliamo di decine di minoranze etniche che vivono all'interno del paese e molte di queste minoranze etniche usano il russo come lingua franca ovvero non sono soltanto gli ucraini e i russi ad utilizzare la lingua russa ma sono anche moldavi e bulgari e ungheresi ad utilizzare il russo come lingua di veicolare nella loro comunicazione con gli altri gruppi etnici quindi questo è un primo passaggio che secondo me è molto importante per capire come la coesione interna di una comunità russofona di base è più un costrutto delle istituzioni politiche culturali e sociali di Ucraina e Russia più che essere una realtà oggettiva e questo è un dato che forse per noi italiani e soprattutto per chi ha avuto modo di leggere i volumi pubblicati dall'editore Keller diventa quasi ancora più evidente da quella che è la produzione letteraria e culturale in Ucraina Keller ha tradotto e pubblicato i libri di Andrei Kurkov uno dei maggiori autori ucraini noti ad occidente riconosciuto come autore ucraino di lingua russa prima in occidente ancora prima che in Ucraina io ho avuto modo di incontrare Kurkov tra il 2010 e il 2013 in quegli anni l'identità di Kurkov come autore ucraino era oggetto di contestazione all'interno del paese proprio per il fatto che quest'autore scrivesse in russo ecco nella quarta di copertina della traduzione edita da Keller è stata la prima volta che ho potuto leggere di Kurkov come di un autore ucraino di lingua russa appunto quest'idea di una separazione tra pratiche linguistiche e identità civica e tutti questi fenomeni ci portano quindi a pensare al futuro della lingua e della cultura russa in Ucraina in relazione al modo in cui le istituzioni culturali e politiche si porranno di fronte a questa questione e questo problema è molto importante per il futuro dell'Ucraina per varie ragioni se guardiamo all'esperienza dell'Ucraina nel corso degli ultimi trent'anni possiamo rispondere anche ad una delle grandi domande sorte nei primi mesi successivi all'invasione del duemila e ventidue si è parlato di cancel culture in relazione alla boicottaggio della lingua e della cultura russa in Ucraina all'indomani dell'invasione russa e ecco il confine in Ucraina tra quella che potremmo definire come la difesa del contesto culturale del paese e la censura di tutto quello che viene prodotto e pubblicato in lingua russa è molto labile se pensiamo che all'indomani del crollo dell'Unione Sovietica l'ottanta per cento della produzione editoriale e dei media in Ucraina erano in lingua russa questo significa che avevamo una lingua ufficiale ovvero l'ucraino che di base era una lingua di minoranza ovvero era una lingua utilizzata nel mainstream soltanto da ristrette cerchie di intellettuali all'interno dell'università ma di base alle pratiche linguistiche e il mondo culturale era costruito in lingua russa ma era costruito in lingua russa tramite quello che potremmo definire un import di una produzione culturale che era prodotta nella federazione russa e ritornava in Ucraina e proprio tramite dei canali di protezione del sistema culturale nazionale che non erano tali da difendere quella che era la posizione del contesto culturale ucraino questo ha portato nel corso degli anni e nel corso dell'intensificarsi e della polarizzazione delle relazioni tra istituzioni politiche ucraine e russe la Russia stessa a sfruttare questa situazione non è un caso che tra all'indomani del 2004 e del 2005 della rivoluzione arancione in Ucraina abbiamo assistito al proliferare di pubblicazioni che proiettavano un futuro in cui sarebbe avvenuto un'ipotetica guerra terza guerra mondiale in cui l'Ucraina sarebbe stata eh sarebbe diventata terra di nazisti e sarebbe stata liberata eh dal da un fantomatica da una fantomatica nuova unione sovietica in Akarkiv una delle maggiori città dell'Ucraina orientale è nato nel corso degli anni duemila una scuola di scrittori di romanzi di storia alternativa potremmo dire è proprio all'interno di questa regione tramite il lavoro delle case editoriali russe abbiamo assistito alla pubblicazione di una lunga serie di volumi dedicati proprio a questi temi e quindi al proliferare di un'idea che eh l'identità russa russofono ucraina dovesse essere difesa da potenze esterne in contraposizione a quella che era la realtà che si stava realizzando all'interno del paese credo che tutto questo debba tornarci utile anche per comprendere come si arrivi alla necessità di boicottare la lingua e la cultura russa in Ucraina dal momento in cui non abbiamo la possibilità all'interno dell'Ucraina non abbiamo avuto la possibilità all'interno dell'Ucraina di sviluppare un percorso culturale nazionale capillare che potesse veicolare anche un'idea di Ucraina comune all'interno del paese e quello che avviene oggi all'indomani della eh dell'invasione del duemila e ventidue non è altro come dicevano i colleghi eh il la continuazione di un percorso di lunga durata che inizia nel duemila e quattordici ovvero ricordiamoci che l'Ucraina si trova in guerra dal duemila e quattordici anno in cui l'aggressione della Russia e l'inizio della guerra nel Donbass ha dato il vita ad una visione della lingua russa come lingua del nemico o lingua dell'aggressore e questo chiaramente ha legittimato parte della comunità intellettuale politico ucraina che portava avanti un'idea di nazione ucraina come legata alla lingua ucraina e alla eh separazione quella che oggi viene chiamata la decolonizzazione del paese da quello che era nel trascorso eh imperiale russo e da quella che è l'eredità della lingua e della cultura eh imperiale eh russa è prodotta all'interno della federazione e quindi quello il problema che ci dobbiamo porre ad oggi è anche come le istituzioni all'indomani di quello che ci auguriamo essere la fine al più presto della guerra in Ucraina si porranno di fronte alla questione della lingua e della cultura russa e questo è un problema che riguarda non soltanto l'Ucraina e la Russia ma riguarda il più ampio eh spazio eh post sovietico potremmo dire se pensiamo alle realtà del Casachstano o della Lettonia in cui le comunità di lingua russa sempre tra virgolette eh eh e sono le maggiori all'interno eh all'interno del dell'ex eh Unione Sovietica e che soprattutto diventa diventa un problema nel momento in cui pensiamo che il destino del russo in Ucraina dipenderà anche da quello che sarà il destino del russo in Russia ovvero se il russo resterà ancora ancorato e legato ad un'idea di potere imperiale o di eh potremmo dire eh potere alternativo a quelli che sono dei processi di trasformazione e transizione politica all'interno della regione o se il russo acquisirà nuove istituzioni culturali istituzioni politiche che porteranno anche a pluralizzare per così dire la realtà russa all'interno all'interno della regione pensiamo a quello che è avvenuto ad esempio con la lingua inglese nel processo di eh decolonizzazione a quelli che potremmo definire come World Englishes il esattamente quello che sta avvenendo oggi in Russia è la creazione di diversi modi di parlare russo e di intendere la cultura la cultura russa l'Ucraina fino al duemila e quattordici aveva l'opportunità di portare avanti anche un proprio percorso in tal senso dopo il duemila e quattordici e soprattutto dopo il duemila e ventidue si trova in una situazione in cui il russo ad oggi diventa una lingua in cui è difficile chiaramente parlare perché è la lingua del nemico è la lingua dell'aggressore e soprattutto la maggior parte dei territori che ad oggi sono stati colpiti dall'esercito russo sono territori in cui la lingua russa è una delle lingue maggiormente praticate quindi potremmo dire che l'aggressione della Russia è un'aggressione alla lingua russa in Ucraina al tempo stesso su questo punto mi fermerei magari possiamo tornarci successivamente grazie Olexei Olexei Bondarenko dunque tu ti occupi tu studi quelle che sono le dinamiche politiche interne all'Ucraina e quindi io vorrei chiederti in merito a Zelensky ci sarebbero dovute essere le elezioni presidenziali nel 24 probabilmente verranno rinviate per causa di forza maggiore però Zelensky è da più parti accusato di accentrare il potere ci sono anche stati dei ricambi al vertice ecco cosa c'è di vero in questa accusa e qual è il ruolo degli oligarchi adesso sì grazie Matteo grazie al pubblico per essere venuto e grazie per l'invito ovviamente e per aver organizzato questo questo evento prima di addentrarci su questo tema di noioso di politica interna di oligarchi vorrei una piccola aggiunta a quello che ha detto Marco perché è una quella della comunità russa e della definizione della comunità russa io credo sia un punto importante ma sarà anche importante in tutti quei processi che partiranno adesso in poi verso un'integrazione o comunque verso il dialogo con l'Unione Europea perché se definiamo la lingua e la comunità russa come comunità l'Unione Europea metterà certi paletti in senso di protezione delle minoranze e ci sarà una questione di discriminazione nei confronti della comunità russa e questo è un credo sia un dibattito già avviato in Ucraina ed è un dibattito molto importante e tra l'altro molto anche interessante credo quello che ha detto quindi grazie per quanto riguarda le elezioni e la centralizzazione del potere io personalmente slegherei la questione delle elezioni come sintomo di centralizzazione o comunque di usurpazione del potere perché è evidente che lo stato di guerra sia dal punto di vista legale perché la Costituzione Ucraina non prevede la possibilità di avere elezioni ci vorrebbe un cambiamento della Costituzione che è una pratica ovviamente molto complessa ma anche dal punto di vista pratico è effettivamente credo infattibile non tutti sono d'accordo con questa visione immagino però pensiamo a che tipo di legittimità un nuovo presidente anche supponendo che sia lo stesso Zelensky possa avere quando le elezioni si hanno e si tengono solo una parte del territorio sotto la minaccia delle armi e così via quindi slegherei il fatto che pochi giorni fa Zelensky ha confermato anche se qualche mesi fa aveva aperto una possibilità di tenere comunque elezioni e questo fatto ha suscitato un riacceso un dibattito politico anche dell'opposizione a Zelensky all'interno dell'Ucraina slegherei questa cosa delle elezioni da la questione dell'accentramento del potere per quanto riguarda il sistema credo che ci sia un'evoluzione del sistema politico economico ucraino ma le fondamenta di questo sistema rimangono ancorate a quello che è un sistema che potremmo definire neopatrimoniale in cui vi è una compenetrazione tra potere economico e potere politico e in cui le istituzioni formali che conosciamo le elezioni il sistema giuridico i partiti sono presenti ma non sempre il risultato del processo di queste istituzioni è definito dalle istituzioni stesse e quindi il ruolo di quello che chiamiamo istituzioni informali rapporti interpersonali tra membri dell'elite giocano un ruolo importante va detto che questo l'importanza di questo ruolo stava e sta scemando rispetto a come era l'Ucraina all'inizio del millennio ad esempio e comunque rimane comunque una componente importante in questo sistema ovviamente gli oligarchi cosiddetti oligarchi poi dovremmo cosa si intende per oligarchi ad esempio quando Akhmetov qualche mese fa o più di qualche mese fa aveva ceduto venduto fondamentalmente il suo asset mediatico il telecanale rappresentanti dell'amministrazione presidenziale hanno detto lui non è più un oligarcho perché non ha più un'influenza mediatica quindi anche adesso considerare Akhmetov come oligarcho o no io tenderei a dire sì però ecco dipende dalla definizione questa è stata tra l'altro la problematica di quella legge che Silensky prima della guerra aveva in un certo senso promosso all'ordine della deoligarchizzazione che lasciava la definizione dell'oligarcha talmente vaga che a finirci dentro ovviamente non chiunque ma era molto molto flessibile in termini di definizione chi è oligarcho come definirlo in questo sistema comunque in questo sistema che è legato a un sistema in un modo o nell'altro neopatrimoniale dove i rapporti interpersonali sono importanti dove c'è una compenetrazione tra il potere politico e economico gli oligarchi giocano comunque e hanno giocato un ruolo importante il ruolo degli oligarchi però paradossalmente se vogliamo ha anche contribuito a un certo pluralismo che non sempre combacia con il consolidamento delle istituzioni democratiche ma è un certo tipo di pluralismo quindi impedendo la concentrazione di potere nelle mani di un solo gruppo di potere e Yanukovic era l'esempio più più eclatante ma se pensiamo che i presidenti ucraini e quindi i gruppi di potere che sostengono i presidenti ucraini sono cambiati a ogni elezione no? Praticamente a parte Kuczyma quindi sono uno strumento anche di un certo tipo di pluralismo d'altro canto ed è un tema che in parte abbiamo toccato e in parte non potrò affrontarlo ovviamente io questa competizione tra vari centri di potere con anche un forte radicamento territoriale che a differenza ad esempio del sistema oligarchico russo no? E quindi si parla di Klandi, Danetsk anche se anche lì è una semplificazione probabilmente però Klandi, Danetsk Klandi, Dnipropetrovsk Dnipro e così via ha anche creato quello che noi discutiamo adesso le problematiche di questa in buona misura falsa divisione tra pro europei e pro russi filo qualcosa piuttosto filo che qualcos'altro russofoni e ucrainofoni che a livello sociale è una differenza almeno fino all'invasione del febbraio scorso non più scorso di febbraio 2022 era molto meno percepita a livello sociale a livello personale a Kievo ma come in molte altre città parlavi lingue diverse e come diceva Marco appunto il russo era uno strumento di comunicazione che univa in un certo senso diverse identità comunque qui sto un po' deragliando e scusate quindi il ruolo degli oligarchi è stato anche l'uso della narrazione politica basata su questioni identitarie questioni linguistiche che ha giocato ovviamente un ruolo un ruolo abbastanza deleterio sulla sulla stabilità del sistema politico ucraino detto questo le accuse di centralizzazione accuse è un sistema complesso e Zelensky per buone ragioni sotto alcuni punti di vista ha con lo scoppio del conflitto della guerra ha ovviamente centralizzato il potere dell'apparato presidenziale marginalizzando in buona misura il Parlamento il ruolo degli oligarchi è stato colpito dalla guerra non solo dal punto di vista puramente economico con molti alcuni di quelli che chiamiamo oligarchi che hanno visto il loro patrimonio crollare che hanno visto il loro potere economico crollare in verità però il sistema non è cambiato radicalmente proprio forse questo in un certo senso il problema perché con il calo e la perdita degli attivi di molti oligarchi va comparato anche al calo economico dell'intero paese e quindi il ruolo degli oligarchi rimane centrale quello che è successo in verità è stato un rimescolare le carte in un certo senso e stamattina leggevo la notizia che Kalamoisky ad esempio è stato confermato l'arresto prolungato l'arresto di Kalamoisky uno dei uno di coloro che aveva in teoria promosso alla presidenza e sostenuto alla presidenza lo stesso lo stesso Zelensky Akhmietov d'altro canto colui che aveva avuto un ruolo piuttosto piuttosto ambiguo per definirlo per definirlo in maniera gentile nel 2014 quando ha giocato su due tavoli un po' con i separatisti e un po' con con il potere in Ucraina ha invece dall'inizio della guerra si è ha cercato di ricostituirsi come patriota ha denunciato l'aggressione russa l'ha chiamata come un genocidio come genocidio e ha ceduto volontariamente il suo il suo o almeno parte del suo impero mediatico ehm e tra l'altro secondo alcune stime il maggiore donatore per il sostegno del militare e così via all'economia ucraina detto questo il rimescolamento delle carte e il ruolo diverso degli oligarchi c'è sicuramente chi guadagna almeno in termini di influenza possibile e Pinciuc ad esempio è uno di quelli che attualmente è molto più vicino all'amministrazione presidenziale che come dicevo ha marginalizzato in buona misura il Parlamento anche se anche lì non si può generalizzare perché soprattutto nell'ultimo periodo vi è un'attività e soprattutto ehm su alcune questioni importanti per la presidenza eh il sostegno del partito di Silenz che non è stato sufficiente perché vi è una spaccatura anche all'interno del partito per concludere volevo chiederti questo quindi il processo di democratizzazione che era in corso in Ucraina si è bloccato con la guerra oppure in qualche modo è proseguito e avessi la risposta probabilmente ok però quello che posso dire ci sono diverse tendenze no da una parte sicuramente Silenzky ha costituito quella che Hale chiamerebbe una piramide di potere no centralizzando il potere marginalizzando come dicevo il Parlamento e affidandosi soprattutto e penetrando diciamo quel tessuto economico attraverso Jermak che è il capo della sua della sua amministrazione che secondo molti fonti giornalistiche è in un modo o nell'altro coinvolto in in affari che legate alla ricostruzione legati quindi diciamo che ecco gli oligarchi hanno perso potere ci sono molti più attori attualmente quindi chiudo perché è una scusa è una domanda molto interessante è il fatto che da una parte vi è un processo di democratizzazione probabilmente più dal basso che dall'alto perché la società civile con la guerra si è consolidata e dal 2014 in verità ma spesso si sottovaluta ad esempio il volontariato o comunque l'organizzazione dal basso orizzontale che è stata fondamentale penso anche nello sforzo belli di questo ti avrei voluto poi chiedere alla fine allora se vuoi ok va bene perché riguarda proprio il processo di democratizzazione perché due giorni fa è avvenuta una cosa insomma un po' straordinaria la decisione della commissione di dare la raccomandazione al consiglio di aprire il negoziato sull'adesione in Ucraina proprio sulla consapevolezza che i condizioni posti dalla Unione Europea anno fa all'Ucraina che erano sette condizioni e il secondo il rapporto il 90% di queste sette condizioni sono state implementate e quindi adesso non so quanto è giusto il calcolo che ha fatto la commissione comunque il rapporto è di 150 pagine che esamina punto per punto tutte le leggi che si sono state adottate in corso di un anno di guerra insomma quindi allora modifichiamo l'ordine insomma previsto e chiedo subito a Paolo Bergamaschi se mi fai al cortesia di passargli il microfono qual è lo stato dell'arte insomma la domanda a brucio a pelo l'Ucraina entrerà mai nell'Unione Europea e quali sono i tempi di questa eventuale adesione insomma se puoi farci il punto della situazione sì grazie grazie dell'invito a te e a Luisa peraltro dieci giorni fa ero con Luisa qui a discutere di Kosovo che è l'altro grande punto l'altro grande focolaio di crisi in Europa e sì oggi è stato pubblicato un mio articolo che fa il punto della situazione su quello di cui riferiva prima Nona e sì ho seguito da tanto tempo il processo d'allargamento il processo d'allargamento non c'è niente di più complicato irto d'ostacoli complesso e soprattutto con tante cose scritte fra le linee che non vengono dette apertamente all'inizio e facevo il caso della Macedonia Macedonia è emblematico la Macedonia nel nord presenta domanda di adesione nel 2004 nel 2005 ottiene lo status di paese candidato passano 15 anni prima che la Macedonia venga concessa la possibilità di aprire i negoziati e nel frattempo dopo la Grecia si intromette la Francia perché chiede la riforma della metodologia d'allargamento dopo la Francia c'è la Bulgaria che si intromette che dice no non può andare avanti perché la Macedonia devi piegare il capo riconoscere che parte della storia almeno come la raccontano loro è diversa ma questa è storia bulgara della quale loro si sono appropriati come in precedente si erano appropriati secondo i greci con un furto di identità storica della Grecia per cui i macedoni non hanno una loro lingua ma quella che parlano in realtà è un dialetto bulgaro e così via tante cose messe di mezzo fino ad arrivare finalmente nel luglio del 2022 che viene dato l'ok all'apertura dei negoziati sono passati nel frattempo 18 anni però non ancora completa nel senso che poi comincia lo screening e quindi i tecnocrati della commissione che prendono in mano il corpo legislativo del paese che ha fatto domanda ad adesione verificano riga per riga come stanno le leggi lo stato ad adattazione delle leggi e verificano se sono sufficientemente prossime vicine a quelle europee per cui si possono cominciare ad aprire 35 capitoli negoziali che sono particolarmente almeno alcuni di questi sono particolarmente difficili bene la macedonia prima di poter aprire i negoziati che formalmente sono stati aperti con una conferenza intergovernativa nel luglio dello scorso anno comunque dovrà procedere ad una riforma profonda della costituzione per fare sì che la minoranza bulgara ottengono status all'interno un riconoscimento all'interno della della costituzione macedone quando i bulgari non riconoscono al loro interno e rifiutano di riconoscere al loro interno la presenza di una minoranza macedone quindi una situazione estremamente complicata la mia impressione per quanto riguarda l'Ucraina perché i tempi sono stati spediti molto rapidi per l'Ucraina l'Ucraina presenta domanda ad adesione quattro giorni dopo l'inizio dell'aggressione russa il 28 di febbraio del 2022 e il 23 di giugno dello scorso anno ottiene già lo status di paese candidato i tempi erano decisamente più lunghi in precedenza per gli altri paesi e a questo punto è chiaro che ci si interroga ma la situazione è reale oppure dietro c'è una considerazione geopolitica e quindi c'è una scelta politica di fondo di dire comunque noi dobbiamo lanciare un segnale all'Ucraina che può essere una ciambella di salvataggio un salvagente qualcosa per far sì che comunque noi diamo una speranza all'Ucraina che un giorno cominciando adesso il cammino d'adesione in tempi non biblici possa esserci effettivamente l'ingresso dell'Ucraina ora è da tempo che seguo i negoziati degli altri paesi vediamo che punto siamo nei Balcani siamo in un pantano a tal punto che i Balcani come tu dicevi penso tu dicevi all'inizio sono diventati di nuovo un'area di interesse geostrategico europeo perché? perché siamo di fronte alle spallate della Russia alla penetrazione economica commerciale della Cina per cui a questo punto è diventata un'area di competizione non da ultimo anche da parte della Turchia la quale nonostante sia un paese candidato procede alla propria politica estera per i cavoli propri eccetera eccetera con i propri obiettivi a questo punto tutto di un colpo ci si rende conto che quello che era considerato il cortile di casa dell'Unione Europea e quindi si dava per scontato che comunque l'area di attrazione cioè il punto di attrazione era l'Unione Europea improvvisamente ci si rende conto che non è così per cui bisogna correre ai ripari e bisogna rilanciare un processo che era stato colpevolmente trascurato negli ultimi Luisa 10, 15, 20 anni anche tu che ci sei dentro a queste cose ecco io non sono particolarmente ottimista sull'Ucraina era giusto lanciare il segnale era giusto lanciare il segnale però rendiamoci conto che questo cammino sarà estremamente spinoso e pieno di imboscate una dietro l'altra a cominciare dagli autotrasportatori polacchi che oggi bloccano il confine bloccano il confine la frontiera con l'Ucraina accusando i colleghi ucraini di concorrenza sleale e gli ucraini dicono ai polacchi sì però ricordiamoci che all'interno dell'Unione Europea quelli che hanno scombinato il mercato dei camionisti e quindi degli spedizionieri siete stati voi polacchi che avete fatto corollare i prezzi muovendomi muovendomi su tutto l'arco su tutto lo spazio europeo per cui è un po' ridicolo che voi oggi accusate noi di quello che delle pratiche che voi avete condotto fino al giorno d'oggi ecco quindi sono situazioni particolari e poi dietro all'angolo sappiamo che il Consiglio Europeo del 15 dicembre prossimo dovrebbe confermare quella che è l'opinione della Commissione ma non è detto che lo faccia perché per dieci anni nonostante la raccomandazione positiva della Commissione nei confronti della Macedonia del Nord un paese membro la Grecia ha bloccato l'apertura dei negoziati quindi ha esercitato il diritto di veto perché nell'ambito della politica estera e di sicurezza comuna ricordiamoci che funziona ancora col diritto di veto il che la dice lunga su quanto sia difficile produrre una politica estera di sicurezza comune a livello europeo che sia tempestiva e coerente ed efficace ecco siamo in questa condizione questo può succedere il 15 probabilmente si arriverà a dare luce verde all'Ucraina però ricordiamoci che io c'è Orban tu parlavi delle questioni linguistiche prima Marco ricordiamoci che c'è Orban dietro e Orban sta conducendo dal punto di vista dei trattati non è possibile per un paese membro contraddire la politica estera adottata dal Consiglio Affari Esteri di fatto l'Ungheria lo sta facendo di fatto l'Ungheria lo sta facendo quindi sta creando grosse difficoltà all'Unione Europea Orban rappresenta il vertice della nuova via della seta a Pechino meno di un mese fa era là a parlare con Putin Sciarto il ministro degli esteri ungherese è andato non solo a Mosca ma è andato anche a Minsk addirittura quindi e quindi sono situazioni paradossali particolari di cui dobbiamo tenere conto allora tu parli con gli ungheresi almeno con l'opposizione ungherese ti dicono apertamente sì Orban Orban non ha mai abbandonato le ambizioni pan-ungheresi non le ha mai abbandonate anzi le ha rivendicate in più occasioni per cui è chiaro che essendoci una minoranza ungherese nella Zakarpatia a Ushgorod eccetera anche se è piccola perché si parla di 120-130 mila persone quindi un nucleo molto limitato che però sono aizzati da Budapest e quindi possono rivestire un ruolo destabilizzante per la stessa Ucraina ovviamente questo va incontro agli interessi di Orban quindi in questa situazione ricordiamoci che le imboscate sono difficili e sono possibili sono possibili dietro all'angolo e e se poi consideriamo che poi alla fine l'Unione deve essere pronta ad accogliere nuovi membri pertanto che Charles Michel il Presidente del Consiglio Europeo abbia annunciato in pompa magna alla fine settembre a Bled quando c'è stato l'incontro dei Paesi dei Balcani ha detto che una data possibile di ingresso dei Paesi dei Balcani sarà il 2030 quanti ci credono di voi quanti quanti ci credono in realtà chiedo perché io non ci credo io non ci credo perché mi rendo conto di quanto sia difficile oggi prendere delle decisioni all'interno dell'Unione Europea perché se non riusciamo nemmeno a riformare il meccanismo di voto a livello di affari esteri rendiamoci conto quanto sarà difficile produrre alla revisione di tutte le altre politiche pensiamo il livello di concorrenza che si stabilirà nel giro di poco tempo per quanto riguarda i fondi all'agricoltura i fondi della coesione tra Polonia e Ucraina dovrebbe essere riformato completamente il bilancio dell'Unione Europea perché gli ucraini diventeranno i principali beneficiari dei fondi europei e vabbè ma Varsavia è d'accordo su questo Varsavia che ha mandato avanti gli ucraini per risolvere i problemi con la Russia che dice voi andate avanti fate il lavoro sporco quello che noi non possiamo fare oggi come polacchi a un certo punto diranno bene voi avete già fatto quello che a noi interessava adesso rimanete dove siete per cui sono situazioni paradossali nelle quali potremo trovarci nel giro di poco tempo e che renderanno estremamente difficile l'ingresso dell'Ucraina comunque noi incrociamo le dita speriamo grazie Giorgio Comai chiudiamo con te il primo giro ti chiederei è questo una riflessione così anche di ampio respiro andando al di là delle questioni geopolitiche che sono state ampiamente trattate anche altrove una riflessione di più ampio respiro su cosa ha spinto la Russia a muoversi nella direzione della guerra io parlo per me ma non sono l'unico credo quando la guerra è cominciata siamo rimasti un po' spiazzati almeno io non mi aspettavo si arrivasse a questo punto come ci si è arrivati ecco qualcuno qualcuno però la stampa in quel periodo i media erano prontissimi a dire succederà 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 però tra di noi dicevamo ma no ma non è possibile come ci si è arrivati cosa ha spinto la rossione decisione del genere partendo da dove vuoi insomma anche non rispondendo alla domanda se è troppo vaga ci sono tante tante questioni ovviamente tanti tanti motivi tanti modi di cercare di spiegarsi ex post quello che è successo ne propongo uno che non è assolutamente esclusivo anzi complementare tanti altri filoni analitici che parte un po' da quella che anche la letteratura scientifica su perché perché ci sono le guerre sembra una domanda così classica spesso quando si leggono appunto i libri dedicati alla questione si si rende conto che anche con il senno di poi non è chiaro perché è cominciata una guerra come noi adesso ci chiediamo perché è cominciata questa guerra perché c'è stata l'invasione e così è anche nelle guerre del passato sia quella appunto del passato più più remoto sia quelle più recenti questo dibattito ad esempio su perché perché gli Stati Uniti hanno invaso l'Iraq appunto anche lì ci sono tutti i dibattiti l'ha fatto per interesse economico l'ha fatto per per effettiva convinzione di favorire la propria sicurezza insomma una versione appunto che poi ha avuto meno successo e tra i motivi che si trova spesso in realtà per cui appunto un paese decide di di entrare in guerra con un altro vi sono motivi legati allo allo status alla percezione di sé all'identità all'orgoglio nazionale e sembrano come dire andare a fare una guerra per l'orgoglio nazionale sembra una cosa di secoli passati una cosa di altri tempi e invece come dire appunto guardando anche guerre più recenti è una pratica diffusa appunto non solo senza andare dietro i secoli non solo appunto le guerre dell'Ottocento il revanchismo la stessa parola appunto viene da da questa pratica ma anche ma anche quelle più recenti e credo che sia tutto sommato anche la spiegazione più convincente per quanto riguarda sia il caso dell'invasione statunitense dell'Iraq quindi perché ha deciso di farlo perché così sarebbe stata più sicura per guadagnare qualche soldo con il petrolio il motivo più convincente è che una grande potenza una superpotenza in quel caso che sentiva la propria identità di superpotenza minacciata doveva in qualche modo superare quella che percepiva come un'umiliazione un'umiliazione dell'11 settembre e quindi invadere un paese che appunto con l'11 settembre aveva pochissimo a che fare per riaffermare la propria identità e secondo me questa chiave di lettura che parte da una problematica della dimensione identitaria secondo me è utile anche per capire perché la Russia ha deciso di invadere l'Ucraina quindi questa dimensione identitaria ha tante componenti parte riguarda sicuramente in modo più diretto l'Ucraina proprio appunto come si è detto in più occasioni le relazioni la negazione dell'identità ucraina e l'affermare un ruolo predominante della Russia anche sull'Ucraina quindi negando l'identità stessa ucraina e questa è una parte importante delle dinamiche che hanno portato a questa guerra ma secondo me un'altra dinamica è proprio quella della Russia come un grande paese che non si sentiva più riconosciuto come tale voleva riaffermare la propria identità di grande paese di grande potenza imperiale e per farlo appunto ha fatto quello che hanno fatto in passato tante altre grandi potenze ha fatto una guerra contro un vicino che riteneva più debone e l'ha fatto per affermare la propria la propria potenza anche nei confronti dell'Occidente che continua ad essere il principale punto di riferimento identitario verso cui si definisce si contrappone in un certo senso l'identità russa e quindi in questo in questo anche quando guardiamo appunto alle fasi precedenti l'inizio dell'invasione quando c'era tutta questa insistenza sul fare un nuovo trattato per la sicurezza in Europa su cui insisteva appunto a fine del 2021 inizio del 2022 anche il Ministero degli Esteri Russo il punto non era tanto appunto avere un nuovo trattato per la sicurezza in Europa la Russia non aveva nessun realistico timore di ritrovarsi invasa da paesi dell'Unione Europea insomma il desiderio era quello di come dire il modo in cui questa richiesta sta richiesta come non come l'inizio di un negoziato sincero sta richiesta come un imporre condizioni per dimostrare che si può imporre condizioni che si può in un certo senso sputare in faccia all'Occidente come si è fatto in Siria come si è fatto con l'annessione della Crimea e non se ne paga le conseguenze quindi in questo senso secondo me aiuta a pensare a questa guerra come una guerra di fine impero come altri grandi potenze imperiali europee anche la Russia sta avendo grandi difficoltà a ridefinire la propria identità è stato un processo traumatico e difficile per tutte le grandi potenze europee un processo che spesso è passato per una sconfitta per una sconfitta militare solo dopo una sconfitta militare o più spesso ripetute sconfitte militari questi sono riusciti a superare come dire questa dimensione di identità imperiale appunto si è visto non solo nel caso più note quello della Germania ma anche tutti gli altri anche la Francia con la sua guerra dell'Algeria e via dicendo quindi quella che stiamo vedendo ora per tanti punti di vista secondo me è una guerra di fine impero e qui c'è il piccolo aspetto positivo in questa dimensione tragica per cui appunto il problema delle guerre di fine impero è che sono grandi potenze europee che si rendono conto devono fare un po' alla volta i conti con la realtà e la realtà come per le altre grandi potenze europee anche per la Russia la Russia non è più un grande impero quindi insomma a seconda di come hanno le cose speriamo si è passi poco tempo potrebbe essere una cosa che richiederà più tempo però a qualche punto insomma i conti con la realtà come l'hanno fatto gli altri grandi paesi europei dovrà farle anche anche la Russia volevo chiedertelo dopo te lo chiedo subito visto che siamo entrati nell'argomento è lecito attendersi una sorta di palingenesi di una Russia sconfitta e quindi in qualche modo di un avvicinamento o di una ripresa di quella filone che guarda all'occidente come un interlocutore o piuttosto c'è da temere un'involuzione ancora peggiore quindi un regime ancora più dittatoriale una una non ci sono i margini cioè mi chiedevo questo se dobbiamo prima Cella diceva la lo scenario più roseo sarebbe quello della insomma della fine del putinismo è davvero lo scenario più roseo sì 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 certo 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 sì no chiaro chiaro però sì appunto come prima diceva Giorgio Cella in questo momento nel brevissimo periodo c'è poco motivo di essere ottimisti nel brevissimo periodo insomma se pensiamo invece un po' nel lungo periodo non c'è nessun motivo per credere che il putinismo sia eterno come dire ideologie e sistemi politici con basi ideologiche ben più forti ben più radicate non sono sopravvissute a una sconfitta militare o una sconfitta non intendo necessariamente una sconfitta piena ma anche come dire una situazione come dire di non vittoria prolungata quindi da questo punto di vista ci sono davvero pochi pochi segni che che il putinismo sia eterno sia davvero di di lungo periodo molto dipende appunto da cosa succede in Ucraina in questa fase come ho detto prima appunto una riconoscibile sconfitta militare aiuterebbe molto nel processo c'è uno spinto aggiuntivo di nuovo dalla letteratura che voglio che voglio fornire e anche questo ci dà appunto pure nel contesto difficile qualche qualche spunto di ottimismo quando guardiamo a quello che è successo dalle altre grandi potenze che hanno che hanno subito una sconfitta militare che si tratti appunto del del Giappone dell'impero ottomano che si è dissoluto insomma insomma un gran numero di casi queste grandi potenze hanno dovuto fare qualcosa per superare una fase di stigma la Russia in questa fase lo è solo dal 2022 non dal 2014 è un paese che è stigmatizzato a livello internazionale perché ha una posizione indifendibile quindi è appunto giustamente marginalizzato dall'Occidente o dal centro di quella che chiamiamo a torto ragione comunità internazionale ora grandi potenze che stanno ai margini di questo di questo spazio politico che per tanti anni è stato egemonico vedremo se lo sarà ancora hanno varie modalità per superare questa fase di stigma una è quella appunto di abbracciare lo stigma dire sì noi siamo effettivamente diversi e ne siamo orgogliosi di essere diversi da questo da questo nucleo occidentale e quindi trovare forza in questa differenza identitaria riescono a farlo appunto i regimi che hanno una base ideologica molto forte o quelli che ne hanno una base religiosa ad esempio il movimento dei talebani ad esempio ha fatto questa strategia di legittimizzazione legittimazione in cui sì noi siamo diversi perché appunto non cerchiamo di farci abbracciare dall'occidente siamo completamente diversi un altro modo classico è quello di dimostrare in modo in certa misura oggettivo avere un successo dal punto di vista economico politico sociale militare dimostrare la propria superiorità questo è un po' quello che banalizzando diremo è il caso della Cina che in un certo senso non deve dimostrare di diventare come l'occidente ha un modello alternativo che è di successo in qualche misura è di successo e quindi riesce ad offrire un modello alternativo quindi anche se la Cina venisse stigmatizzata a livello internazionale non si ritroverebbe potrebbe avrebbe una forza per dimostrare la propria popolazione che ha un'identità forte ha un modello funzionante per certi versi forte superiore o così almeno può raccontarlo internamente allora questo questo secondo modello per me è completamente impossibile per la Russia evidentemente non è un modello né di innovazione né di successo economico e quindi non è un'opzione fattibile la Russia ha cercato di proporsi come proporre un modello ideologico alternativo tutta questa insistenza sui cosiddetti presunti valori tradizionali però davvero secondo me come dire l'omofobia è un po' poco come base ideologica per proporsi come effettiva alternativa all'occidente liberale davvero non può bastare per porsi come modello che può proporre alternativo alla popolazione russa credibile e quindi in sostanza se queste due opzioni non ci sono resta la terza che è quella in qualche modo di riconoscersi come parte di una grande tradizione e di dire che il comportamento che ha portato allo stigma è stata un'aberrazione e quindi nel lungo percorso storico si dice sì immaginiamo un fantomatico una fantomatico russa liberale futura potrebbe dire sì il modello banalmente appunto che ha preso la Germania abbiamo fatto queste cose come dire abominevoli però noi siamo appunto una grande cultura europea e in questa identità ci ritroveremo ora appunto questa quest'ultima versione sembra forse un po' eccessivamente ottimista a partire da dove siamo però se io penso alle altre due opzioni principali questa terza mi sembra comunque più probabile delle altre due perché appunto non mi sembra che la Russia abbia alcuna probabilità di porsi come polo economico o tecnologico mondiale non ce n'è nessuna traccia che la Russia di Putin riesca a porsi come dire come nuovo centro di un'ideologia effettivamente alternativa a quello occidentale mi sembra implausibile e quindi se escludiamo queste ipotesi forse c'è spazio per un qualche ottimismo di lungo periodo appunto per arrivarci se questo ospichiamo devono succedere tante cose come ho detto appunto una riconoscibile sconfitta militare appunto sarebbe una parte importante di questo processo grazie io credo che le sue considerazioni riguardo alla possibile lettura di questa guerra diciamo come parte di una traiettoria di tramonto dell'impero e quindi e c'è tutta una letteratura su questa possibile lettura in termini postcoloniali e coloniali della guerra sia cruciale anche per prendere le distanze da una lettura che rappresenta un po' un problema soprattutto tra i politologi ma penso magari anche in termini di andare un po' oltre la mia la mia piccola comunità di un'interpretazione puramente putinocentrica cioè noi spesso ci siamo chiesti ma se non ci fosse stato Putin cosa sarebbe successo si può leggere tutto ciò che è successo dal 2014 e poi dal febbraio dell'anno scorso soltanto in termini di putinismo tuttavia quello che dici ora e quindi di in uno scenario futuro di estremo ottimismo il ricordare questo momento come aberrazione diciamo fa un po' il paio con l'interpretazione così innocentrica perché si dice beh è colpa è stata colpa sua è stata colpa di un leader sbagliato che ci siamo quindi non lo so questo queste due letture sono conciliabili o no non lo so la butto lì come elemento del dibattito sbagliato sì penso che questi questi spunti siano essenziali anche per analizzare e anche per comprendere per cercare di storicizzare questa guerra ovvero da dove nasce questa guerra e secondo me anche guardando al dibattito interno in Russia si può anche capire percepire un po' la dimensione la portata del passo indietro che dobbiamo fare nel tempo per cercare di comprendere quale sia il nocciolo della questione Andrei Kortunov il direttore del Russian International First Council comunque una persona dentro il sistema in un articolo dell'aprile del 2022 parlava di questa guerra come l'ultimo atto del grande trauma della Russia e del dramma della Russia alle prese con la propria eredità imperiale e credo che questo tipo di lettura sia molto importante per farci comprendere come la portata del passo che dobbiamo fare indietro nel tempo per comprendere la guerra attuale non vada così lontano ma debba essere incanalata proprio in quello che è stato il crollo dell'Unione Sovietica e in quel processo che ha preso forma tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 che ancora ad oggi è al centro del dibattito di base il discorso di Putin del 21 febbraio del 2022 era un discorso sulla delegittimazione del crollo dell'Unione Sovietica come un momento di cesura ovvero più che essere un discorso relativo alla statualità ucraina poteva essere letto anche come un discorso in cui si riprendeva quel dibattito interno alla Russia ricordiamoci che l'Unione Sovietica crolla proprio per questa dinamica di Russia contro Russia per certi versi è per riprendere un'idea di Russia che è ancorata a quella visione imperiale che veniva delegittimata dopo il fallimento del push del 91 credo che sia questo tipo di percezione ci dà l'idea di come la fine dell'età post-sovietica che viene così decantata nel dibattito ad oggi di base sia una fine che viene determinata da un modo di vedere questo percorso storico degli ultimi trent'anni come un'età storica da delegittimare e da eliminare dalla memoria storica delle popolazioni che l'hanno vissuta e degli attori politici che l'hanno vissuta ed è questo il tentativo di Putin che appartiene ad una elite diciamo politica russa che si è affermata in età tardo-sovietica e che ad oggi continua a perorare questo tipo di visione credo che questo possa darci anche la dimensione di come determinare la fine dell'età post-sovietica voglia dire anche determinare la fine di quel percorso di transizione politica che poi sono tutti i temi che abbiamo trattato oggi nazionalizzazione democratizzazione mercatizzazione e europeizzazione che alla fine sono stati svuotati del loro significato nel momento in cui non si è vissuto un momento di chiaro ordine politico post-sovietico ognuno ha percorso la sua direzione e di base c'è un libro bellissimo di Madlina Madlina Tlostanova parlando di post-coloniale di decoloniale che parla della condizione esistenziale post-sovietica come una ontologia senza futuro appunto quest'idea che questa transizione non veda mai una fine un po' come il processo di allargamento dell'Unione Europea che di base adesso viene più guidato da contingenze reattive potremmo dire alla dimensione politica reale e concreta che portano paesi che non erano mai stati considerati come potenziali paesi dell'Unione stati membri dell'Unione come la Moldova e l'Ucraina che di base appartenevano al partenariato orientale che non aveva una chiara prospettiva di adesione o di integrazione reale e concreta all'interno dell'Unione ad oggi vengono prioritizzati all'interno di questo percorso perché è necessario farlo appunto come mandare un segnale per certi versi ma di base non c'è un progetto non c'è un'idea non c'è una strategia chiara in quello che viene fatto e credo che il tentativo anche di questa guerra sia quello proprio di mettere in luce mettere in evidenza tutta questa precarietà diremmo di percorsi di transizione e riportare rilegittimare quella politica che era stata messa da parte all'indomani del crollo dell'Unione se poi ci pensiamo penso per dare anche spunti a Giorgio che so essere appunto anche aver studiato a fondo anche le questioni degli stati de facto nella regione post-sovietica questa dialettica tra diverse generazioni di elite politiche tardo-sovietiche si replica all'interno di questi contesti e questa guerra per certi versi può essere letta anche tramite questo prisma ovvero un tentativo di restaurare un sistema di potere che era stato delegittimato negli anni tra l'89 e il 91 ma che ad oggi vuole essere per certi versi riscritto da alcuni di questi attori non so come se pensi a quello che è venuto in transinistria o alla luce e lo proietti su quello che sta succedendo oggi potrebbe essere anche interessante vedere queste dinamiche però forse sto andando oltre scusateci per questa maratona di due ore e mezza cercate di resistere non è no perché la Russia secondo me quello che stavi dicendo Marco va oltre anni 90 e 80 e ci riporta al periodo del letterarismo e al colonialismo russo che poi non è studiato nell'accademia perché quando si riferisce al colonialismo al decolonizzazione si accentua il discorso sull'Africa sul colonialismo britannico eccetera quindi gli studi effettivamente sui processi di decolonizzazione in Russia non ci sono tanti ma soprattutto anche perché l'Unione Sovietica non è stata percepita come un potere coloniale poi la Russia è un potere coloniale particolare perché ha esperienza di doppio colonialismo interno e esterno perché in sé la federazione russa è un progetto coloniale che ranchiude migliaia di minoranze etniche migliaia e lingue e poi ovviamente il progetto dell'Unione Sovietica era puramente espansione territoriale attraverso gli strumenti coloniali adottati ancora dal zarismo russo e quindi doppiamente è dolorosa per i russi uno perché appunto devono a che fare con il con il doppio decolonizzazione quella estera e poi quella interna e in quello trovare poi la loro identità per una società che poi tra l'altro segnala un libro di un professore russo Sergei Medvedev che insegna al Charles University War Made in Russia uscito pochi mesi fa e cerca di rispondere a questa domanda che si fa spesso adesso ma questa è la guerra di Putin o la guerra russa contro l'Ucraina e lui spiega che Putinismo non nasce da Putin e non va verso giù ma il grassroots il popolo che porta Putin e Putin fa parte di quella società lui solo che riesce a dare la parola insomma ai sentimenti già presenti in una società al quale struttura alla base della struttura c'è la violenza la violenza in famiglia fra marito e moglie la violenza fra i genitori e i figli la violenza fra i insegnanti e i pupilli della scuola quindi la base della società è la violenza che poi si è vista anche nelle modalità di guerra che la Russia sta conducendo in Ucraina dove appunto c'è questa crudeltà spesso inutile a fini militari e gratuita perciò insomma sono assolutamente d'accordo che poi la sconfitte devono essere in realtà sono in realtà un chance storico e io penso che gli ucraini non sono stanno combattendo per la loro libertà ma paradossalmente la vittoria dell'Ucraina sarebbe unico chance storico per la Russia poi se sapranno utilizzare non sapranno utilizzare un'altra cosa per dare una nuova vita a quel paese che comunque sarà un processo molto doloroso grazie Giorgio prima volevo aggiungere una cosa sul primo punto tanto sono tutti i basi comunicanti comunque una data fondamentale per la storia dei due paesi non so se mi sono autolimitato io prima perché quando incomincio a parlare di Rus di Kiev vado a Erodoto quindi non volevo terrorizzarvi con queste cose ma solo per dire una data fondamentale nei rapporti bilaterali tra Mosca e Kiev 1654 gli accordi di Pereyislav e lo dico non per gli studiosi qui sul parco esperti ma soprattutto per chi ci segue al pubblico che vuole magari approfondire la storia della costruzione di tutta questa crisi complessissima l'abbiamo detto imperi regionalismi storie eccetera 1654 è la formazione dei rapporti istituzionalizzati tra una prima forma di Ucraina e l'impero in una forma ancora in divenire russo questo tra l'altro ci porta all'attualità in due modi perché il trecentenario di questi accordi furono ripresi da Khrushchev direttamente nel 1954 con la cessione della sovranità della Crimea alla Repubblica Socialista Sovietica Ucraina quindi e oggi la la guerra sta tornando nel Mar Nero esattamente quindi la Crimea ritorna ancora di primo piano tra l'altro ecco parlavamo prima di storicizzazione del conflitto ho la coscienza pulita su questo in piano di divulgazioni perché lo dico a un altro frequentatore dei salotti di Bruno Vespa Matteo Zola che riuscì no dato che l'ho visto anche lui a porta a porta fece anche un servizio sugli accordi di Presla proprio per porta a porta questa battuta a parte comunque altre due cose che volevo dire sulla su questa guerra e diciamo anche che è una crisi esistenziale questa ed è esistenziale sia per gli ucraini che per i russi per gli ucraini perché davanti a loro hanno la l'orizzonte di una scomparsa del loro stato quindi o di una frammentazione una sorta di nuove spartizioni della Polonia no in termini ecco 2.0 per l'Ucraina e dall'altro lato è esistenziale anche per la Russia perché nella percezione imperiale o neoimperiale russa qui ci si gioca l'impero come è stato accennato anche adesso nelle ultime battute cioè i russi si giocano la loro dimensione imperiale di potenza e noi sappiamo che la Russia vive come stato proprio per essere riconosciuta potenza cioè la gloria no vilica iarassia per l'appunto quindi veramente qui siamo a uno snodo centrale della storia il tutto ha a che fare ancora con i confini come abbiamo detto prima ricordiamo anche dal punto di vista storico Ucraina significa okrai in russa cioè sui confini e qui c'è anche la sua essenza geopolitica se la Russia e concludo questo breve intervento con vari punti un po' spaiati forse ma sono ripeto tutti i vasi comunicanti se la Russia dovesse uscirne bene dal suo punto di vista sarebbe una tragedia per l'Occidente perché sarebbe una pratica una sconfitta di tutto quello per cui l'Occidente ha combattuto ma anche a livello valoriale di diritto internazionale e penso alla dottrina Stimson alla dichiarazione Wells qui vado in cose forse più tecniche di storia delle relazioni internazionali ma cioè l'impedire forme di nuove democrazioni di nuove forme di stati a sovranità limitata in stile Brezhnev l'Ucraina è uno stato che aveva delle aspirazioni di unirsi a un determinato blocco facciamola facile e gli è stato impedito quindi si ritorna si ritornerebbe a una legittimazione di nuove logiche di potenza ottocentesche per quindi una tragedia per quanto concerne la reputazione dell'Occidente tutto quanto ha fatto dalla seconda guerra mondiale in poi fino alla vittoria della guerra fredda e è un un pasticcio enorme per quanto concerne la reputazione internazionale degli Stati Uniti che in questi due archi di crisi riprendo una fotografia più ampia ha i suoi alleati principali nell'Ucraina nel quadrante centro orientale europeo e in Israele in quello medio orientale se dovesse diciamo non riuscire in questa sua dottrina di assistenza all'Ucraina come detto all'inizio un po' spuria un po' opaca fin dall'inizio l'aveva delineata il ministro degli esteri Lloyd Austin all'inizio cioè fermare impedire che la Russia rifaccia un'altra cosa del genere con altre nazioni limitrofe si sono limitati a questo una sorta di containment moderno e quindi ecco anche per la reputazione generale già macchiata dall'uscita dall'Afghanistan e degli Stati Uniti sarebbe un dramma direi senza termini più moderati grazie andiamo verso la fine faccio ancora un paio di domande se riusciamo a essere stretti mi collego insomma ancora a Paolo poi vorrei chiudere con Paolo quindi un congelamento del conflitto sarebbe una vittoria della Russia o un male necessario tu come vedi una via d'uscita ne parlavamo mi piace contraddire chi mi ha preceduto ma per me è un male necessario almeno lo vedo dal punto di vista politico allora io non avevo intenzione di cominciare col processo d'adesione prima in realtà la scaletta era diversa non è importante però ci tengo a precisare una cosa per me novembre di quest'anno sono dieci anni dall'inizio dei moti di Piazza Maidan dieci anni fa io dieci anni fa arrivavo in Piazza Maidan testimone diretto di quello che stava succedendo sono arrivato i primi casini in piazza sono all'incirca il 20 di novembre del 2013 arrivo una settimana dopo io un'eurodeputata tedesca Rebecca Ams che mi chiede andiamo a vedere quello che sta succedendo perché ho sentito che sta succedendo qualcosa a Kiev arriviamo in Piazza arriviamo anzi ero da solo perché l'eurodeputata arrivava il giorno dopo perché ho detto ero proprio su Cresciati che è il corso principale di Kiev arrivo e vado subito in Piazza Maidan per capire in quel momento solo la parte verso l'hotel Ucraina era quella dove c'erano le manifestazioni non tutta la piazza era occupata e mi trovo di fronte 1500 2000 ragazzi dai 20 22 23 anni studenti tutti studenti tutti e con l'incoscienza dell'età sono lì in piazza che ballano danzano la settimana prima erano stati picchiati dai tituschi dai corpi speciali della polizia e questi sono lì con le bandiere dell'Unione Europea con le bandiere dell'Ucraina e gridano euro più euro più euro per un momento drammatico per l'Europa erano in piena crisi euro quindi Europa matrigna si discuteva e questi qui invece che rilanciano l'idea d'Europa ecco io ho immortalato poi ho ripreso queste immagini per capire un attimo e mi piacerebbe rincontrare questi ragazzi dieci anni dopo che avranno adesso trentadue trentatré anni parlare non con i leader ma con quelli che partecipavano in modo spontaneo a questa manifestazione che era in corrispondenza del famoso vertice di Vilnius del partenariato orientale dove l'Ucraina avrebbe dovuto siglare l'accordo d'associazione che invece era stato sconfessato due settimane prima e proprio per questo gli studenti erano scesi in piazza perché gli studenti ragazzi Ucraina non gliene fregava niente di guardare a Mosca loro guardavano a Parigi guardavano a Londra guardavano a Bruxelles guardavano guardavano da altre parti a me piacerebbe rincontrarli per capire se cosa furlava nella loro testa allora per capire se effettivamente questa tensione forte questo desiderio di rompere il passato delle generazioni precedenti è ancora presente alla luce di quello che è avvenuto fino ad oggi anche perché Giorgio dicevi che tu eri là probabilmente scritto anche su quello che stava succedendo anch'io ho scritto tanto su quello che stava succedendo allora obiettivamente quante persone in Italia erano interessate a quello che succedeva allora non gliene fregava niente nessuno non gliene fregava niente nessuno io ho scritto il mio diario da piazza Maidano l'ho messo in un libro terre d'oriente eccetera scrivevo sui giornali da una parte dall'altra cercavo di sollevare la questione in Italia non gliene fregava niente nessuno titoli di test in Germania in Polonia nei paesi baltici giustamente in Italia era come se quello che succedeva in Ucraina niente succedeva allora noi siamo stati testimoni di quello che succedeva e a me fa specie un po' quando vedo i talk show le persone che persone che dopo lo scoppio della crisi sono diventati tutti esperti di Ucraina di Russia di relazioni nello spazio sovietico eccetera a me è quello che fa più effetto visto anche l'ambiente da cui provengo che è l'area eco-pacifista assistere a persone che dicono si Putin ha sbagliato ha fatto male Putin no noi prendiamo le distanze da Putin ma poi confermano al cento per cento la narrativa putiniana che si fonda su tre cose sostanzialmente c'è stato un colpo di stato mosso dalla CIA i nazisti hanno preso il potere e in Donbass è in corso un genocidio queste sono le tre cose su cui si fonda la narrativa putiniana sposata al cento per cento dalla maggior parte dell'area buona parte dell'area ecco va bene ecco allora io ho visto quello che c'era ho visto va bene a parte che mi riguardo ho visto quello che c'era tra l'altro io ero anche osservatore alle elezioni sia delle elezioni del 2019 elezioni legislative e presidenziali quindi ho visto come si svolgono tutte queste cose è facile insomma dire beh insomma di cosa stiamo parlando ecco e poi per come si è configurato il conflitto dopo è chiaro che il mio cuore è rimasto in piazza Maidano sono rimasto in piazza Maidano io sono rimasto per cui quando vedo oggi con tutti i difetti che noi rappresentiamo che noi abbiamo da noi quando vedo che da una parte sì l'Unione Europea Stati Uniti l'Occidente insensolato e così e dall'altra parte vedo configurandosi un'alleanza che è fondata sulla Russia Bielorussia Corea del Nord Iran allora come si fa a rimanere neutri mi chiedo come si fa a rimanere neutri come si fa a rimanere neutrali di fronte ai 600 prigionieri politici russi ai 1600 prigionieri politici ucraini che sono lì a marciare nelle carce di Lukashenko di fronte alle migliaia di prigionieri nelle carceri iraniane eccetera eccetera di fronte a quel lager a cielo aperto governato da un putto che è la Corea del Nord come si fa a rimanere neutrale ecco io sono rimasto ancora allo spirito di Piazza Maidan grazie allora per chiudere vorrei posso aggiungere quella domanda a parte che quella generazione lì o sta combattendo adesso sul fronte una parte di loro all'altra parte ormai nelle organizzazioni non governative appunto combattendo un'altra fronte che è quella la democratizzazione del paese aiutando insomma o interagendo con il governo per implementare le reforme poste dall'accordo di associazione per la firma di quale stavano combattendo su Maidan e un po' è quel desiderio quando nel vicinato vedi loro che sono più europei di noi 8 novembre quando la commissione aveva detto che dava la raccomandazione per dare lo status di candidato alla Georgia che era una cosa molto dibattuta cioè nel senso tanti dicevano no non merita altri dicevano merita il popolo ma non il governo alla fine la commissione decide di dare questa raccomandazione non vi racconto neanche come si è festeggiato questo in paese la manifestazione che si è fatta ma soprattutto il presidente Giorgiano lancia un manifesto firmato indirizzato alla consiglio per dicembre e la fila dei cittadini per firmare quel manifesto è durato fino alle 5 di mattina ieri ieri sera questo per insomma riconnettere anche che il Maidan non è solo Maidan in Ucraina e Maidan un po' simboleggia la voglia dell'Europa che poi è associata alla libertà insomma per quelli che sono stati colonizzati per tanto tempo posso io non ho problemi sono solo che felice è una cosa che mi sta a cuore lo dico a te nona sei georgiana allora ero in piazza si dà il caso che ero in piazza anche di fronte al parlamento georgiano nel 2003 quando c'è stata la rivoluzione delle rose capitavo là per caso per un'altra cosa poi mi sono trovato in mezzo alla massa di gente che manifestava dove c'era Sakashvili che parlava che cominciava ecco un mio grande amico è stato l'ex primo ministro georgiano Zura Giovania è stato mio grandissimo amico ogni tanto da primo ministro mi telefonavo io che ero a fine conti uno scuro funzionario europeo questo mi telefono mi dice Paolo come stai vabbè l'ho visto crescere come persona l'ultima l'ultima volta che l'ho visto prima che scomparisse in circostanze misteriose poi dopo le inchieste sappiamo come vanno a finire in Georgia in un ristorante in centro a Bilisi mi ha detto Paolo aiuto facciamo una scommessa va bene guarda io scommetto che la Georgia entrerà era il 2004 che la Georgia entrerà nell'Unione Europea prima della Turchia ho detto pronto scommettiamo è impossibile lui è morto però aveva ragione allora due battute per chiudere avviate pazienza due battute per chiudere ma le devo fare anche perché è giusto ci sono un paio di questioni da toccare vabbè volevo chiedere degli stati de facto nel Caucaso non lo chiederò magari lo chiederò al pubblico ma una domanda ad Alessandra Russo tu ti occupi di sicurezza come si potrà proprio più breve che poi insomma ma come si potrà ricostruire un'architettura di sicurezza in Europa al termine di questo conflitto e se questa architettura di sicurezza dovrà coinvolgere la Russia questa è una domanda come quella un milione di dollari sulla democratizzazione allora faccio un paio di riferimenti a quando ero studentessa e a ora che sono docente quando ero studentessa c'è il professore di studi strategici che ci faceva una testa così su quanto l'architettura di sicurezza gli ordini politici internazionali fossero alla fine il frutto del risultato di come va a finire una guerra una guerra costituente ora mi pare che la guerra in Ucraina possa essere definita una guerra costituente anche diciamo retrospettivamente pensando a quanto come finire la guerra creerà un ordine nuovo un ordine in cui tanti tabù probabilmente sulla definizione di cosa è violenza politica di cosa è conflitto di cosa è crisi di cosa è sicurezza dovranno essere sciolti e poi faccio riferimento a una cosa su cui io faccio una testa così agli studenti che è questo articolo di molto prima del 2014 di una autrice tedesca Ursula Schröder non va letto tutto ma il titolo è emblematico dice che la sicurezza europea e quindi l'architettura di sicurezza europea non è stata costruita by design quindi non è stata concepita sulla base di una certa rappresentazione di chi è il nemico di cosa è la minaccia e di cosa rende sicura sicuro chi all'interno del perimetro del territorio europeo ma by stealth improvvisando attraverso innovazioni istituzionali artifici tecnici incrementali nel tempo c'è stata l'opportunità di definire cosa sia sicurezza europea nel 2014 ed è stata un'opportunità perduta perché in quel frangente in un certo senso le istituzioni europee hanno replicato un po' questo modello ipertecnicistico e depoliticizzato di intervento come nella gestione del conflitto senza e questa è una cosa che tanti attori locali in Ucraina con cui ho avuto l'opportunità di interloquire recriminano l'Unione Europea voi non avete capito la vera natura del conflitto all'Unione Europea ai rappresentanti delle istituzioni europee ora siamo chiamati di nuovo a fare questo tipo di operazione che prima di essere politica è cognitiva stiamo capendo cosa è la guerra siamo veramente capaci di capire cos'è questa guerra e quindi dalla comprensione profonda di questa guerra e quindi anche dalla ridiscussione delle nostre storie coloniali non solo dalla lettura della storia coloniale imperiale russa ma anche dalla nostra storia coloniale di considerare alcuni territori semplicemente come buffer come storie spazi di interdizione reificati senza un'attorialità propria siamo chiamati a ridiscussere questo io penso che questo più che l'architettura istituzionale sia quello che modellerà il futuro dell'ordine politico e di sicurezza europeo quindi sforzo cognitivo di immaginazione intellettuale ok sei l'unico ucraino tra i relatori ti lascerei chiudere penso tu abbia delle considerazioni da fare su quanto è stato detto sì e ci sono talmente tante esatto quindi scegliene una no innanzitutto un commento sul libro di Medvedev c'è una discussione anche a livello sociologico fino a che punto possiamo attribuire colpe dei leader alla popolazione e viceversa una discussione che a me trova dalla parte meno determinista dello spettro in un certo senso dal 24 febbraio c'è stata la discussione c'è la discussione chi e come quanto la popolazione russa sostiene questa guerra ed è una discussione secondo me molto complessa e complicata perché la Russia non è un spesso si adottano strumenti anche per misurare il sostegno il feeling della popolazione che funzionano in democrazia ma che non funzionano in regimi diversi è comunque una discussione che mi mi premeva solo una nota del genere vorrei avrei voluto tornare alla questione della democratizzazione in un certo senso dal basso in Ucraina ed è un discorso ovviamente complesso sottolineare probabilmente solo due punti fondamentali che per me sono fondamentali e l'inaspettata organizzazione per certi versi inaspettata per molti analisti per molti studiosi anche organizzazione orizzontale che è stato fondamentale spesso ci si dimentica non è sotto alto a questo momento fondamentale soprattutto a livello locale a livello di appunto locale di città di municipalità e che ha è stato uno strumento importante per resistere nella fase iniziale e anche questo tornando al discorso di prima è uno dei punti di scontro attualmente dal quale credo emergerà fino a che punto le istituzioni democratiche sono consolidate in Ucraina perché con il processo di decentramento del potere gli attori locali hanno i sindaci soprattutto avuto un potere politico ma anche finanziario anche economico di spendere i soldi che dalle tasse localmente cosa che non avevano prima e nell'ultimo periodo vediamo che ci sono frizioni tra il centro e gli attori locali e questo sarà un punto fondamentale anche volendo essere ottimista alla fine del conflitto per la futura ricostruzione e quello sarà veramente determinato secondo me anche per il processo di una futura integrazione o comunque di avvicinamento lento e difficile verso l'Unione Europea che personalmente non so se vederla come una panacea oppure uno stimolo forse non lo so è una discussione che potremmo probabilmente estendere per tutta una serie di motivi che lei citava prima e il secondo punto che secondo me è centrale è il ricambio generazionale abbiamo parlato di questa crisi imperiale in Russia e di questa come dire visione guardare il futuro guardando anche il passato e questo l'Ucraina non è esente da questo non era esente da questo però vi è stato e Zilienz che rappresenta questo cambio generazionale in un certo senso questa nuova elite che non è sempre una cosa positiva che però alimenta alcuni alcuni fattori all'interno del paese questa alla fine è una guerra della generazione nostra fondamentalmente non è una guerra della generazione dei nostri padri in un certo senso e lo sforzo umano della nostra generazione è quello è quello principale e la speranza in un certo senso è che questa generazione sarà quella che ricostruirà poi il paese che alla fine è una generazione che ha vissuto solo non ha vissuto l'età politica matura nell'unione sovietica e ha una visione di ricambio valoriale quello che i sociologi chiamano il ricambio generazionale quindi tutto un sistema valoriale quindi anche una visione se vogliamo di democrazia cosa è la democrazia ci sono visioni diverse fondamentalmente una domanda probabilmente semplice cos'è la democrazia e mia madre mi risponderebbe in maniera completamente diversa a quello che probabilmente risponderei io e questo è in un certo senso sottolineato anche dalla trasformazione durante la guerra l'unica cosa che due cose mi preoccupano in verità una è la debolezza delle istituzioni alcune delle istituzioni fondamentali per il consolidamento della democrazia e qui parla comparativista una sono i partiti politici 20 anni fa Andrew Wilson scriveva dei virtual politics e partiti virtuali politica virtuale fondamentalmente riferendosi a come la politica veniva fatta post sovietico e dal punto di vista dei partiti politici poco è cambiato in Ucraina perché i partiti nascono e muoiono nuovi partiti sono capaci di conquistare ma non di consolidarsi e anche il partito di Zelensky ne è una dimostrazione alle elezioni amministrative nel 2020 non è stato capace di mantenere quel consolidamento da livello partitico adesso come dicevo prima in Parlamento ci sono anime diverse all'interno del partito ad esempio ma anche altri partiti quindi il consolidamento dei partiti che permette di superare la fase di personalismo che dopo tende a accentramento del potere appunto e a minare alcune delle istituzioni e la seconda e chi credo chiudo è il trend di sfiducia nei confronti delle istituzioni che è un trend al basso e se questo è stato anestetizzato dall'invasione nel febbraio e quindi abbiamo visto per quanto i numeri dei sociologici dei survey delle indagini sociologiche vadano prese con le molle ma comunque vediamo adesso i sondaggi e i trend l'unica istituzione che è rimasta della quale la popolazione si fida a livelli precedenti a livelli simili alla prima fase dell'inizio del conflitto della guerra e sono le forze armali mentre la presidenza il parlamento i partiti i servizi segreti e non osserviamo un cano e questo è un trend che ancora potrebbe in futuro alimentare i nuovi leader che arrivano se vogliamo in forma populista Aristovic ad esempio è uno che sta cercando di fare di cavalcare questa cosa qua attualmente ed è la riproduzione di un sistema che c'è una persona al comando che lotta o vuole diventare presidente e il sistema è accentrato a quello e ovviamente è un problema per il consolidamento delle istituzioni democratiche in un certo senso ma sono trend e sono questioni molto molto complesse penso che chiuderei qui se ci fosse tempo facciamo qualche domanda al pubblico che naturalmente beh possiamo allora si passerei abbiamo ancora un po' di sì sì un attimo abbiamo ancora un po' di tempo e quindi sono appunto felice di dare la parola a chi è venuto c'è una battuta uno dei film che abbiamo premiato come osservatorio in questo premio importantissimo senza danaro naturalmente che osservatorio attribuisce ogni anno a un festival presentato a Trieste si chiamava si chiama Hamlet Syndrome ed è proprio sulla generazione di cui parlavi Paolo quindi quella che ha combattuto la guerra dal 14 in poi e devo dire un film che merita un documentario film un mix un docufilm direi che merita perché racconta proprio la generazione di tu dici e ne trae quello che ci si porta via questo io e questo grande bisogno di libertà per la quale per difendere la quale si è disposto a rischiare la tua vita ma anche una generazione profondamente traumatizzata da tutti i punti di vista quindi come dire le conseguenze di lungo periodo sulla generazione che ha vissuto la guerra in generale bisognerà tenerli una parola quando l'osservatorio perché per otto anni il silenzio generale ha sempre pubblicato tutto quello e la volevano schiacciare buonasera grazie ma io faccio parte di East Journal e quindi vorrei dire una cosa e fare una domanda a Nona Michelizze che conosce bene la situazione nel suo paese ma la prima cosa che vorrei dire è che noi su East Journal abbiamo denunciato il rischio della guerra da molto presto fin dall'aprile del 21 e addirittura poi sempre crescendo io ho scritto un pezzo sul panorama al 20 dicembre del 21 e già lì dicevo apertamente che ci sarebbe stata la guerra quindi insomma potendo guardare bene si vedeva che insomma qualcosa sarebbe successo e qualcosa di serio però ecco a parte l'Ucraina mi piacerebbe chiedere alla signora riguarda la Georgia la Georgia abbiamo visto che è stato uno dei primi dei primi paesi attaccati dalla Russia quando ancora l'Europa non sapeva della io mi ricordo che appunto l'anno della guerra ero in Crimea e mi ricordo che i tatari di Crimea dicevano arriveranno anche a noi erano preoccupatissimi da questa situazione poi c'è stato il caso del rischio del blocco del porto di Sebastopoli Yushchenko che insomma ha rischiato veramente di creare un problema serio anche militare e io ero proprio lì e quindi tutti erano preoccupati mentre noi non ci davamo ancora diciamo contezza di quello che sarebbe successo mentre voi lo avete visto sulla propria pelle perché addirittura quando Sarkozy quasi rimproverava i georgiani ma come mettetevi d'accordo calate le braghe arrivederci quindi insomma ecco adesso la situazione nel suo paese come nel senso che io so che la popolazione ovviamente dopo tutto quello che è successo non è favorevole infatti è stato anche quando c'è stato quel giornalista russo che è venuto in Georgia l'hanno costretto a scappare dall'hotel circondando l'hotel minacciando di linciarlo ed era un giornalista fra l'altro neanche un servo del potere quindi adesso abbiamo la situazione di un governo che è abbastanza filo russo anche perché il povero Saakashvili è in prigione e rischia la pelle quindi mi piacerebbe sapere anche le ultime sulla sua salute e quindi c'è questo questa dicotomia fra l'opinione popolare e il governo che purtroppo è schierato con Mosca quindi ecco mi piacerebbe sapere il suo parere e la sua visione di quello che può succedere grazie sì buonasera io mi chiamo Salvatore Sinagra sono nel comitato scientifico di un cespi che però non è quello che conoscete voi diciamo con tanti acronimi non so per quale motivo poi succede che due centri studi che fanno che ambiscono a fare più o meno la stessa cosa scelgono lo stesso vabbè fa niente no allora io faccio una domanda sulla sulla guerra la guerra quando è scoppiata la guerra allora io seguo l'area di vicegrado quindi sono molto attento a quello che succede in Ucraina però non ho la competenza e la capacità di andare nei dettagli però da come l'ho capita io qua c'è stata una storia in cui fin dalla fine dal 1991 un pezzo di Russia importante non si è mai rassegnato ad aver perso l'impero ma in particolare l'Ucraina stiamo parlando di Ucraina e per cui ci sono state tutta una serie di azioni e attacchi a bassa intensità c'è stato un primo salto di intensità nel 2014 con gli omini verdi possiamo dire che fossero a servizio di Mosca un'esternalizzazione chiamiamola bad company come volete però comunque è una guerra un po' diversa da quella che conosciamo noi e su cui siamo abituati a ragionare che è quella del mondo fino al 1989 però è anche quella guerra e poi c'è stata una seconda escalation due escalation quella del 2022 quindi la guerra dicevano in tanti dicevano non scoppierà nel 2021 ci dividevamo noi dicevamo scoppierà l'altro diceva non scoppierà ma c'era già la guerra in Ucraina nel 2021 c'era nel 2020 nel 2019 quindi una chiave di lettura magari particolarmente balzana me lo direte voi non può essere che semplicemente Putin a un certo punto sarà malato non malato vuole scrivere la storia quello che volete però ha fatto un ragionamento molto semplice e io voglio portare a caso un risultato e dal 2014 che massicciamente ho i miei uomini lì o gli uomini verdi a grattare ma non hanno grattato nulla voglio fare un salto di qualità perché sferro l'attacco adesso lo sperro perché c'è un'Europa approvata dalle restrizioni del covid il sol fatto che si parli di contingentamento del gas spingerà le cancellerie europee a trattare e a dire agli ucraini sapete che c'è gli dovete dare due tre quattro cinque blast mettetevi d'accordo e la chiudete lì allora non può la chiave di lettura più corretta invece di guerre che scoppiano e non scoppiano è che una guerra in fondo c'è sempre stata ci sono stati due salti di intensità e l'evento scatenante è stato Putin che ha visto un'Europa provato un'Occidente provato dal covid che probabilmente a un certo punto avrebbe derogato a principi che sono fondanti almeno per me fondante l'intangibilità dei confini io sono un federalista europeo che credo nell'integrazione europea penso che il percorso che abbiamo fatto con la ceca la ce poi l'UE sia abbia come corollario l'intangibilità dei confini quindi per noi quello è un problema importante non è che Putin ha detto sapete che c'è dopo il covid questi derogano a questi principi e trattano e quindi è un momento propizio per me che io invece l'opinione pubblica me la gestisco diversamente magari dando la colpa agli americani a quelli che ci vogliono distruggere eccetera grazie buonasera grazie a tutti se parliamo le prospettive l'assemblea l'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa per esempio ha dichiarato che se Putin vincesse le elezioni nel marzo 2024 e per esempio io sono sicuro che lo farà sarebbe considerato legittimo cosa pensate tutti che cambierà e se lo farà buonasera scusate sono un po' emozionato perché credo sia la prima volta che prendo in mano un microfono spero capiate grazie non so come funziona abbiamo parlato appunto del ruolo dei giovani in in Ucraina per Maidan ma voglio anche ricordare in Bielorussia quando c'è stata l'evoluzione del 2020 tanti ragazzi sono anche scappati dalla Bielorussia e sono scappati tanti ragazzi in Russia da quando è scoppiata la guerra e volevo chiedermi se per Putin o per il governo russo il fatto che una fetta giovane della popolazione esca dalla Russia sia più un fattore positivo una vittoria del governo visto che era vuol dire una fetta contraria a Putin o è comunque una cosa negativa considerando che la Russia è un paese che ha una natalità molto bassa e in più una prospettiva di vita inferiore rispetto ai paesi europei e quindi ragazzi che magari hanno know how studiano se ne vanno via dalla Russia visto come un problema o meno grazie sulla Georgia allora sulla Georgia la guerra non comincia neanche nel 2008 con cinque giorni di guerra perché a 2008 si arriva dopo due guerre negli anni 90 con la Prasi del sud dove ci abbiamo a che fare con un conflitto con due dimensioni etnopolitiche e geopolitiche cioè sulla base del conflitto flamma maggioranza georgiana minoranza abbas è uguale fra la maggioranza georgiana minoranza ossetina interviene la Russia in difesa delle minoranze e finisce la guerra con che i georgiani perdono il controllo sulla Prasi e ossetia del sud che poi diventano due repubbliche de facto dopo 2008 riconosciuto come stati indipendenti dalla dalla Russia la Russia invade nel 2008 arriva Sarkozy e negozia l'accordo di sei punti e questo è anche uno dei motivi insomma quando siano scettici sul negoziato anche in Ucraina è perché c'è la precedenza dell'accordo di sei punti negoziato dagli europei fra Medvedev che era allora presidente e Sarkashvili quell'accordo di sei punti prevedeva il ritiro delle truppe russe sulla linea pre guerra 2008 ovviamente quell'accordo non è stato mai implementato dalla dalla Russia non solo non sono ritirati dai territori ma esattamente due settimane dopo firma dell'accordo hanno riconosciuto l'indipendenza di due repubbliche poi hanno forzato due repubbliche di firmare accordi di amicizie che permetteva di aprire le basi militari alla Russia sia in Abkhazia o Sette del Sud e adesso tutto questo ha ripercussione anche quello che sta succedendo esatto prima hanno chiuso i cosiddetti peacekeepers Nazioni Unite in in Abkhazia che fra l'altro questo dice anche tanto sulle Nazioni Unite che a sua volta allora ha permesso di fare un contingente dei peacekeepers fatto solo dai russi che poi erano parte del conflitto e poi non è steso dei peacekeepers dell'OSI nel caso dell'Ossetia del Sud e adesso c'è un'altra dimensione questo conflitto perché dopo che Ucraina e i militari ucraini rendono difficile per i russi la loro attività nel Mar Nero e bombardare dal Mar Nero l'Ucraina i russi sono stati costretti ad allontanare il nave militare dall'Ucraina e la Russia si è rivolta ufficialmente alla Abkhazia e vorrebbe dal porto di Abkhazia stazionare lì navi militari e bombardare da lì poi lanciare lì dei missili contro l'Ucraina quanto alla situazione interna allora il governo è stato furbo di mascherare la narrativa la sua retorica e il suo essere pro-russi con la narrativa essere pro-pace cioè noi abbassiamo la retorica contro la Russia così evitiamo che il conflitto si allarghi su di noi e in qualche modo questo ha funzionato su una certa parte della società perché i traumi di guerra di 2008 persistono ancora e quindi la paura che ecco insieme agli ucraini poi in fila c'è la Moldavia e poi noi questa paura c'è in in Giorgia e loro poi apertamente hanno sempre appoggiato l'integrazione della Giorgia in Europa sabotando però poi a livello dell'implementazione delle riforme questo processo ecco perché sia la commissione altro ieri che nel rapporto sia vari politici insomma di alcuni stati membri hanno apertamente detto che il fatto che lo status va a Giorgia va al popolo giorgiano e il governo ha fatto sicuramente poco per meritarsi questo questo status secondo me l'Unione Europea e ci sono delle diciamo ci sono l'Unione Europea c'ha le sue responsabilità il perché di questo backsliding della della democrazia in Giorgia e qua subentra la questione di condizionalità eccetera perché è un discorso lungo ma comunque il calcolo che si è fatto è che con Ucraina e Moldova con la decisione di apertura dell'adesione del negozio sull'adesione non volevano comunque allargamento nella commissione e va sempre con approccio regionale e non volevano che Giorgia trovassi due passi indietro di di Ucraina e Moldova e concedendo lo Stato sperano secondo me che poi adesso entriamo in anno elettorale per la Giorgia in ottobre ci sono elezioni parlamentari dove le elezioni diventano anche un test sull'Europa insomma non solo sul governo ci sono altre domande ma chi vuole rispondere alle altre domande Giorgia no si vuoi il signore dato che ha parlato della questione dei confini abbiamo detto che la Russia non si è mai rassegnata al fatto di aver perso un impero e su questo forse l'Europa avrebbe dovuto essere più lungimirante sul fatto che un giorno la Russia avrebbe messo in atto vari sistemi per ripristinare in qualche modo la sua grandezza imperiale sulla questione tra l'altro anche del futuro del conflitto e degli altri Georgia Abkhazia Ossezia Transnistria io invito e la invito anche indirettamente a riporre la concentrazione sulla questione degli stati de facto e delle guerre protratte che sono due elementi fondamentali della politica estera russa nel mondo post sovietico è un meccanismo diciamo diabolico per così dire che però per i russi ha funzionato in pieno perché il sistema è mettere un piede all'interno degli ex stati sovietici e garantire una presenza militare russa questo porta a una disfunzionalità dello Stato e porta la Russia a rimanere all'interno del suo ex giardino di casa giardino diciamo di influenza in questo meccanismo la Russia ci sguazza senza dubbio sa come gestire queste situazioni perché è una cosa ormai collaudata ho citato prima l'Abkhazia l'Ossetia la Trasnistria e il Donbass è una zona quasi uno stato de facto ormai da post 2014 io e Paolo abbiamo scopriamo di aver avuto tante avventure comune sono stato anche come osservatore dell'OSCE sia in Ucraina che in Georgia e ho avuto anche diciamo il privilegio di vederle queste situazioni e quindi non ci stupiamo che la Russia col passato che ha avuto avrebbe un giorno trovato il suo Putin che avrebbe poi messo in atto delle politiche di ripristino di questa sfera imperiale concludo solo dicendo due cose la invito altresì a vedere il dibattito interno russo ma già ai tempi di Yeltsin sulla Crimea ad esempio cioè c'è stata quasi senza soluzione di continuità un pensiero russo di volontà di riprendersi la zona storica della novorossia che comprendeva la Crimea guarda un po' dove si combatte oggi Mar Nero Crimea Danesk Lugansk quella novorossia di Caterina II e di Pietro I poi mi diranno con l'ossessione della storia però è Putin ad averla no? prima che io voglio dire no? Quindi ecco queste cose poi concludo solo dicendo un'altra veramente finale sintetico la questione delle garanzie come in Ucraina in futuro anche per il futuro del Medio Oriente di Gaza si sta parlando di questo sistema delle garanzie che è una sorta di escamotage per dire non troviamo una pace in qualche modo accettabile o definibile come tale è una situazione di continuità di una instabilità con un po' di limiti posti dalla comunità internazionale o da quello che ne rimane o che ne rimarrà alla fine di queste due avventure belliche prendo due domande anche io brevemente una sono interpretato bene quella riguardo alla legittimità internazionale di Putin dopo le prossime elezioni si è visto anche con le elezioni in Bielorussia appunto che è difficile anche in quel caso dove vi è una vincitrice delle elezioni che ha un certo livello di riconoscimento internazionale poi appunto per tante questioni alla fine il governo se vogliamo così dire de facto della Bielorussia continua a contare e così sarà inevitabilmente anche per la Russia l'elemento secondo me più interessante per quanto riguarda i processi elettorali in Russia è quello che rischia non è tanto la questione sulla legittimità internazionale ma piuttosto quella interna sono processi che hanno lo scopo di dimostrare la capacità di controllare l'apparato di governo in ogni sua parte dimostrare forza e quindi è chiaro che queste elezioni Putin le vincerà e quindi forse non è neanche corretto chiamarle elezioni però può essere un elemento appunto interessante per per valutare appunto il controllo sull'interno per quanto riguarda invece la domanda sui giovani e la dimensione demografica ci sono appunto ci sono studiosi appunto che guardano questo conflitto anche pensando in termini di politiche demografiche che è un aspetto estremamente delicato perché se da una parte si perde una parte della popolazione giovane per l'immigrazione e si perde una parte della popolazione giovane perché muore sul campo di battaglia la Russia anche guadagna popolazione statisticamente perché annette ampi territori quindi la popolazione russa tecnicamente sta aumentando per questo e vi è anche un altro effetto in parte controintuitivo delle dinamiche di guerra ovvero che l'immigrazione da parte in particolare dell'Asia centrale è aumentata in tempo in tempo di guerra una dinamica che apparentemente si ha anche in altre guerre a cui banalmente io originalmente non avevo pensato perché se in tempo di guerra tanti uomini vanno al fronte aumenta la domanda come dire di lavoro interno per i lavori maschili e quindi di nuovo la popolazione sia popolazione immigrata aumentata soprattutto nel primo anno di guerra quest'anno sembrano esserci numeri un po' diversi però in modo molto significativo e poi appunto c'è questa dimensione dell'annessione che a seconda di come vanno le cose però è una dimensione dal punto di vista demografico molto molto rilevante per quanto riguarda la dimensione dei giovani secondo me c'è un aspetto interessante di questi anni interessante dico appunto come studioso che è quello dell'insistenza sull'educazione patriottica che è un filone su cui appunto ho fatto ricerca in passato e su cui si è lavorato in Russia in questi anni ma si è lavorato con nuovo vigore secondo me la speranza da parte di Putin è quella effettivamente di perdere una sola generazione adesso banalizzando la generazione che è diventata adulta circa tra il 2000 e il 2010 in senso ampio perché l'idea che la generazione più vecchia è già con lui e la generazione più giovane se l'educazione patriottica si farà bene sarà con lui quindi questa è la speranza io onestamente sull'impatto sull'efficacia di questa appunto nuova educazione patriottica qualche dubbio ce l'ho però che la speranza di Putin sia questa e che quindi perde effettivamente solo una componente demografica relativamente piccola nella sua base di consenso secondo me è insomma un elemento che è parte insomma della strategia di lungo periodo del Kremlin quale penso manchi la domanda anche di su Putin decisione sbaglio si e poi forse non mi sono confuso io no se se la decisione di Putin fosse quella di la follia di Putin all'improvviso di invadere no e poi la legittimità sì no la legittimità sì no io aggiungerei concordo con quello che è stato detto anche sulla fuga o comunque sull'emigrazione e guardando all'interno del regime e potrebbe avere no conseguenze conseguenze anche positive non c'è il senso nel consolidamento anche se sappiamo che le elezioni sono insomma sempre più almeno negli ultimi anni una un'istituzione vuota fondamentalmente almeno soprattutto con i presidenziali è differente anche lì le elezioni locali in Russia che sono molto più competitive che è una cosa interessante vabbè non c'entra niente scusate per quanto riguarda sì credo che la decisione come abbiamo detto quello che vedo io adesso personalmente non vi è una spiegazione facile al perché la guerra e perché il timing della guerra perché è avvenuto a febbraio piuttosto che nel 2014 o perché non ha aspettato altri anni prima prima di invadere definitivamente l'Ucraina e parte anche della comunità scientifica vede una serie di crisi internazionali quindi Covid quindi la crisi in America con il periodo della presidenza Trump e così via come uno dei fattori che ha limitato lo spazio teoretico per il quale la decisione è caduta in quello specifico 2022 però come ha detto anche lei è stato un processo molto lungo e in verità non è solo 2014 ci sono stati problemi anche all'inizio degli anni 2000 con la Russia che ha iniziato a costruire dove adesso c'è il ponte di Kerch una fortificazione nel 2003 mi pare sull'isola di Tuzla quindi è stato un processo e come hanno detto tutti fondamentalmente seduti qua è in un certo senso una questione anche elettitaria il timing sicuramente può essere stato deciso in base all'effetto della situazione internazionale più ampia ma probabilmente sì prometto di essere brevissimo so che quando si inizia così è sempre va sempre al contrario c'è tutto totale ammirazione per un pubblico che per tre ore sta ascoltando quello che non sapete che verrete interrogati ma esistenza chiaramente dateci un segnale per farci staccare prima o poi io volevo tornare ad una alla domanda fatta dal dal ragazzo prima che per fortuna ha preso il microfono in mano e ha chiesto qualcosa di molto importante credo in relazione ai giovani russi che stanno lasciando il paese e al contributo che potrebbero dare in futuro al processo di democratizzazione dal basso potremmo dire dall'esterno dell'idea di Russia e la creazione anche di una nuova idea di Russia stessa è incredibile quanto io sono stato a novembre scorso a Tbilisi che è stata diciamo invasa dai russi creando anche enormi problemi dal punto di vista economico affitti di appartamenti lo stesso è avvenuto a Yerevan anche anche Istanbul stessa è diventata una meta importante di migrazione dalla Russia e si emigra dalla Russia non dal 2022 ma già da tanti anni da decenni direi e in Russia si è protestato anche in passato ricordiamoci che la generazione della delle proteste di Piazza Balotneia resta una generazione mancata ovvero resta una di quelle famose rivoluzioni colorate che hanno fallito e che hanno dato il via a restrizioni paragonabili a quello che è avvenuto soltanto in Bielorussia e in in Russia stessa e io mi ricordo sempre per fare un po' di Amarcord ero anch'io con voi sul sul Maidan nel nel 2013 la generazione del Maidan essenzialmente una generazione disillusa dal primo governo del post Maidan la generazione del del Maidan non ha visto quei riconoscimenti e un ingresso nel nella politica reale all'indomani delle della rivoluzione di Euromaidan e ricordiamoci che Poroshenko ha perso le elezioni del 2019 in modo disastroso è un po' normale ma è ciclico per tutte queste realtà ovvero Volodymyr Ryshenko parla di questa crisi di rappresentanza politica nello spazio postovietico possiamo parlare di giovani possiamo parlare di nona parlava di di attivi di entrata di questi giovani nelle ONG ma non è sufficiente per avere un impatto nella vita politica del paese questo secondo me è molto importante anche da affermare ovvero tutti questi giovani che stanno lasciando il paese e si stanno trasferendo in altre realtà e questo forse è l'elemento più importante stanno anche iniziando a creare associazioni network dal basso di russi che iniziano anche a vivere questa democratizzazione dal basso al di fuori del proprio paese e questo sarà forse uno dei temi da tenere d'occhio e da analizzare in futuro anche per comprendere che tipo di contributo potranno dare ad una Russia se ci sarà un'altra Russia o che tipo di ruolo avranno nelle società che li ospiteranno ci sono tantissimi interessanti dibattiti su riviste come non so Comersante oppure Novaya Gazeta Europa che sarebbe la nuova versione di Novaya Gazeta creata al di fuori dei confini della federazione russa in cui molti articoli si intitolano Kamumi Nuzhni appunto a chi siamo necessari e c'è questo forte dibattito che sta andando avanti tra i diversi membri di questa comunità che stanno cercando di capire quale sarà il loro ruolo a cosa devono guardare alla società che li ospita o al paese che hanno abbandonato e poi ciclicamente un discorso che nella storia russa ritorna ma che chiaramente avrà un ruolo molto importante chiudo con due consigli per gli acquisti se visitate il sito e anche la pagina YouTube di Memorial Italia sta facendo un grandissimo lavoro di traduzione di materiali anche di video documentari dedicati all'emigrazione russa o al conflitto generazionali ci sono due film molto belli uno è Razeriv Sviasi se non mi ricordo male che potremmo definire come la rottura dei legami che parla dello scontro generazionale tra russi che sostengono la guerra di Putin e russi che decidono di lasciare il paese pur di sostenere pur di sostenere l'Ucraina e di opporsi allo Stato e un altro film molto bello entrambi con i sottotitoli in inglese e in italiano quindi avrete la possibilità magari di dare un'occhiata trauma svidietilia il trauma del testimone che racconta proprio l'esperienza di questi russi che hanno lasciato la Russia e che guardano a quello alla loro esperienza di russi che oggi si sentono responsabili di questa guerra e cercano di comprendere dialogando tra di loro quale possa essere il loro contributo in futuro per determinare una Russia diversa ecco questo credo che magari può essere uno spunto per con i consigli io chiuderei rimanderei al momento più conviviale le ulteriori domande che è un'occhiata